comunque giulio tu sei venuto qua per farci dei regali ma io voglio fartene uno prima di tutti mamma mia che è il nostro nuovo libro che esce il 20 quindi tra tre giorni per sperling uncouffer sul live design che diventerà il libro di testo della mia community è diventerà il libro di testo della mia con speriamo perché finora li dovevo mandare sul su quello di davy evans no il designing your life gli amici di enrico che fantastico allora questo è meglio non perché è un grosso upgrade rispetto al loro metodo che poi non è un metro loro ci tengono a dire che non è un metodo è un insieme di strumenti per migliorare la propria vita secondo il metodo del design thinking questo è un po un'evoluzione perché abbiamo notato dopo anni di pratica di quello che insegnano che è una roba fighissima perché ricordiamoci che il loro corso su live design è il corso più frequentato della stanford university che in stanford university sono migliaia e migliaia gli studenti quindi quando sono andato alla stanford university abbiamo intervistato un po gli studenti e molti alla fine non sapevano neanche che esistesse certo ci sono tanti di quei corsi però comunque il più frequentato e però ci sono delle delle mancanze secondo noi che riguardano l'aspetto forse più umano artistico creativo loro cosa fanno loro traslano il design thinking quindi quella roba che di fatto ha cambiato il mondo perché loro gli americani l'hanno applicata a tutto ma soprattutto alla tecnologia eccetera e di fatto ha colonizzato il mondo l'applicano alla vita ma proprio tipo copia e incolla vabbè come faccio l'iphone faccio la mia vita non so come nello sono molto pragmatici se invece da europei oppure da persone che hanno un approccio diverso alla vita abbiamo voluto includere anche delle componenti legate all'interiorità la spiritualità l'essere umano che non è fatto solo di materia ma è fatto anche di altri sono sinceramente emozionato ti spiego perché perché l'approccio che hanno in quel libro è un approccio tipicamente anglosassone no quindi dove puoi fare design thinking noi dobbiamo fare think o thought designing cioè come europei tu leggi quello si va bene carino però la realtà è diversa è molto più complessa nella realtà nella quale viviamo noi nella quale noi dobbiamo disegnare le nostre vite ma certo quindi dopo un po lo leggi vabbè ok tutto carino però non è applicabile cento per cento non è applicabile poi proprio su me manca un pezzo cioè non so come dire prima di fare un buon live design devi creare un terreno fertile cioè non puoi pretendere di dire ok si creativo dai premi questo foglio e crea una mappa mentale sai con le freccine il progetto di sea grazie a ci grazie al cazzo se tu non riesci poi a tirare giù le idee la gente si frustra il tour design non funziona ma domandati perché la gente non riesce a tirare fuori idee perché magari è stressata perché magari vive una condizione dal punto di vista della salute non perfetto quindi secondo me la spiritualità il percorso interiore è preordinato al live design e quindi a noi sembrava assurdo che nel mondo girassero mille libri con esercizi su come essere più creativi su come migliorare la nostra produttività sul lavoro eccetera e poi mancasse l'origine c'è la radice dell'albero certo è come se tu hai il mal di testa io ti do l'analgesico esatto perché hai mal di testa il sintomo ma non curi la malattia e e ancora prima secondo me c'è il discorso del livello energetico perché io ti posso insegnare una tecnica di design thinking ok e però tu puoi non avere il mindset o la capacità di applicare quella tecnica quindi faccio vedere come si fa però poi non riesci a fare ma ancora prima potresti non avere l'energia di di diciamo necessaria per sviluppare la voglia il desiderio di farlo desiderio la parola chiave questo allora lo sai che faccio loro il desiderio non ne parlano nel desiderio c'è loro è una roba e tantomeno di vocazione se non ne parlano e secondo noi guarda prima di te tanto gli è sfuggita la parola vocazione quando ero lì ma secondo me non sapevano neanche bene magari gli danno un significato diciamo orizzontale però attenzione nel libro loro non c'è la parola vocazione l'hanno introdotta successivamente dopo che hanno parlato con me no hai parlato il desiderio la puntata prima di te del bazar c'era l'ama michelle che secondo me ha detto una roba fighissima no proprio che si connette a quello che abbiamo detto qua e uno vuole cambiare la sua vita è ma vuole ne parlavano in meditazione come faccio io dicevo a spiegare alle persone quanto potente possa essere meditare i risultati fa guarda incente da fare cioè la gente si muove col desiderio certo devi spiegare alle persone che devono essere mosse dal desiderio che cosa vuoi dalla tua vita cioè ti sei mai soffermato ecco è suonato anche una campana tibetana grazie durante questo questo mio recital cioè ti sei mai soffermato a dire ma veramente io chi sono ma cosa desidero io e quindi parte tutto da lì no cioè bisogna citare l'idea di fatti di fatti guida alberto bormolini che è stato un altro ospite del bazar quello della costa crociere qua solo per lì affissionato quando è venuto a venezia forse in quel coro c'era anche tu a venezia no purtroppo non sono potuto venire mi avevate invitato ma all'ultimo momento bastardo infatti mi ricordo che ci hai paccato ha parlato ha fatto un intervento totalmente sul desiderio ti ricordi lui ha detto guarda io vengo qua ma cioè sono io che devo imparare da voi cioè comunque persone che prendono armi e bagagli vanno fino a venezia l'ido di venezia che è l'isola di un'isola per diventare più profittevoli e comunque chapeau volete che vuol dire che avete voglia di spaccare cioè siete motivati vi fate il culo per venire qua imparare una roba il desiderio e poi ovviamente lui poi giustamente upsella il suo mondo e dice comunque by the way ce n'è solo uno che più ricco di tutti e sta là sopra e lui è l'unico che può decidere tutto quindi bisogna aspirare bisogna desiderare puntare all'infinito e la cosa più infinita che c'è è quello che si chiama dio chiamolo come cavolo vuoi tu insomma ho trovato un modo però di hackerare questa cosa vai cioè una cosa che posso dirti prendila come se prendessi l'aspirina che in qualche modo qualcosa smuove perché ho notato che parlando con appunto gli startup li vedevo mi descrivevano le cose guardami grafici le cose poi a un certo punto li vedevo musci no allora come fai a eccitare qualcuno perché anche se io ti dico qual è il tuo desiderio eccita il tuo desiderio non è una cosa che puoi fare dove devo premere qual è il pulsante a premere invece ho trovato un trucco per eccitarlo ti devi svegliare prima dell'alba ogni mattina e fare qualsiasi cosa tu voglia correre camminare distante da qualsiasi stimolo digitale vivendo il momento in cui il sole sorge se fai questa cosa anche per 30 giorni qualcosa si muove cioè cominci a rinalzare il tuo livello energetico perché boh non lo so ci sarà perché vivi questo momento di passaggio dalla notte al giorno arriva la luce la bellezza la natura non lo so però ho visto l'alba è una rinascita non so come dire è proprio un rituale no è un rituale di rinascita e quindi continuare a vedere una roba che rinasce tutti i giorni una roba che by the way se non ci fosse lei non esisteremo tutti quanti ovvero la stella denominata sole cazzo dici ti entra dentro di te il concetto senza che qualcuno te lo spieghi con la mente ma è la natura a innalzarsi proprio il livello energetico potrebbe ho trovato mille spiegazioni anche mediche allora una è rispetto alla veglia cioè il fatto che i raggi solari colpiscano attraverso il nervo ottico l'amigdala interrompe e il ciclo che ti ha portato al sonno e quindi ti rende più sveglio e più pronto ad affrontare quello che devi vivere quindi più lucido non sei intontito beh ma infatti questo di cui appena parlato miracle monica è diventata la moda dei silicon valley del miracle monica youtuber americani cioè si alzano tutti alle quattro e mezza si fanno la gara che si alza prima però lo fanno in maniera stressata cioè tu guardi gary viner ciacca alle quattro e mezzo lì a scrollare sì ma perché gary viner ciacca è fatto male lui ha inventato questo folle del lastling vabbè fatti i suoi se vuole ma c'è c'è una modalità per farlo che comunque chi dorme non pilla pesci comunque ancora prima degli americani io semplicemente dormo con senza le persiane senza le tende quindi quando arriva la luce mi sveglio ma fin da piccolo e secondo me quello potrebbe essere un modo per attivare questa cosa per quelli ancora più pigri sì ma non è un che svegliarsi fino all'alba dell'alba dire già avere un desiderio allora se tu lo fai dopo due tre giorni comincia andare a dormire presto perché non sono né un fan della deprivazione del sonno che è la cosa più sbagliata che puoi fare ridurre le ore del sonno che sono il momento in cui il corpo impara vengono processati tutti i pensieri si rigenera quindi non diminuire le ore del sonno regà svegliatevi alle quattro e mezza non importa no non importa il cazzo perché se sono andato posso sì 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 no no puoi dire non importa tutte le volte che vuoi pensi di essere arrivato scusa importa si può dire quindi no devi costruire questa cosa però all'inizio devi partire da qualche parte quindi la prima parte la sveglia poi sarà intontito tutto il giorno andrà a dormire prima ti risveglierai prima e comincerai a entrare in questo ciclo quindi comunque ti svegli presto ma dopo aver dormito le tue otto ore otto ore e mezzo pacifico e poi neanche dell'attività fisica inizio pensavo potesse essere l'attività fisica io prima correvo sempre e poi ho avuto uno schiacciamento di dischi intervertebrali per cui sostanzialmente se corro dopo un po dopo tre giorni sto bloccato con la schiena quindi ho cominciato a camminare poi mi annoiavo quindi ho iniziato il nordic però non è l'attività fisica in sé uno di questi ragazzi a cui ho consigliato questa cosa e che sul quale ho visto un cambiamento è stato una delle prime avvisaglie ma ha detto ma io a quell'ora devo portare fuori il cane esatto porta fuori il cane no ma esatto sai che mentre parlavi di questo discorso dello svegliarsi prima è evidente no che modificare la quotidianità inserendo un rituale è un atto che risveglia le persone in tutti i sensi nel tuo caso visto che è proprio stiamo parlando di risveglio però c'è la quotidianità delle persone che c'ha il figlio che deve portare a scuola e quell'altro già la sera fa quello io lavoro faccio i turni effettivamente noi non è un caso che da sempre facciamo corsi esperienziali sia per gli startup sia per gli investitori cioè portandoli lontano dal loro luogo chi è l'inventore della medicina wiki pucca l'inventore della medicina ipocrate ipocrate cioè ipocrate voglio dire lui portava la gente su un'isola per curarsi non faceva un cazzo li prendeva li portava sull'isola tornavano erano guariti ci aveva capito che la faceva solo quelli raccontiamola bene no non è senso che dentro l'isola faceva altri rituali che creava tutto un sistema che era lontano dalla realtà quindi dalla dalla routine lavorativa normale e le persone andavano lì mangiavano diversamente facevano sport guardavano opere teatrali quindi metteva anche l'arte la belle quindi il tema più sicuramente ci sono vari step quindi già cambiare la nostra quotidianità aiuta ma caspita e dedicarsi almeno una volta all'anno io non dico una volta all'anno anche se sei strasposato strafigliato eccetera a levarti fuori dai coglioni per una settimana intera ma senza andare con gli amici a puttane a in thailandia a phuket cioè no stai da solo vai come abbiamo fatto io e ricco siamo andati adesso durante il covip e si può è legale sono andati a forte ventura per lavoro da soli non c'avevo niente da fare non avevo un programma non mi sono iscritto a nessun corso sono andato là mi ha cambiato la vita l'ennesimo il live design è anche quello cioè quello di assentarsi levarsi dai legami familiari legami anche lavorativi ma non andare in vacanza per distrarsi no per concentrarsi di più su quello che siamo e far emergere quello che l'importante è detto bene e andare senza un'agenda cioè dici vado ho prenotato magari l'hotel l'ozium certo quello che faccio io per otto mesi all'anno almeno una settimana all'anno fatelo ma ma basta una settimana veramente basta una settimana tu hai mai provato giulia continuamente no e allora diciamo c'è l'ozio quotidiano che la meditazione allora uno dice ma che sta a fare perché dedichi del tempo alla preghiera perché dedichi del tempo alla meditazione che sta a fare sto facendo la parte più importante che è quella che mi consente di vivere in maniera intenzionale tutto il resto e poi guarda ti dico una volta ora domenica diciamo questo nella io appartengo una comunità della mia parrocchia e questa comunità era edita quella che la sapienza della tradizione della chiesa cattolica che ha sempre visto lungo sul tema dei ritiri alla il ritiro è questo no domenica per esempio vivrò un ritiro e poi una volta all'anno un ritiro più lungo di quattro giorni ed è e questo ti mette in una in un esercizio che è quello di saper crearti il luogo per dilatare lo spazio interiore le religioni in realtà fanno quello che bisognerebbe fare il problema è che poi c'è stato un problema di branding di politica politico politico però adesso è iniziato ramadan ieri vedevo sui l'ho scoperto da instagram che è iniziato ramadan perché c'erano nelle stories sai che ogni tanto quando c'è un grosso evento c'è la luna adesso è diventato di moda augurare buon ramadan esatto perché è politica no c'era la notizia di bambini cioè in pratica in una scuola hanno hanno ha protestato perché i bambini in ramadan cominciavano a svenire e quindi c'è stata la protesta dei presidi che hanno vietato allora sicuramente poi ci sono le strutture però ragazzi il ramadan cos'è è quello che fanno i fighetti di hipster il digiuno che è provato scientificamente che funziona e che dà un benessere poi durante tutto l'anno la stessa roba quella che hai detto tu cioè i ritiri le religioni hanno sempre fatti retreat che adesso sono tutti hipster vado a fare yoga retreat e la parrocchia sotto casa sempre fatto retreat non so come dire assolutamente non ti servemo cioè non serve né che sia qualcosa di organizzato c'è anche una differenza tra quando vai e stacchi per andare a partecipare a un evento un'esperienza che comunque una sua agenda e invece quello che dicevi tu prima enrico cioè c'è niente da fare cioè il vuoto affrontare il vuoto perché è difficile perché nel vuoto si crea qualcosa di nuovo non è veramente difficile perché è un automatismo quello di occupare il tempo io almeno ce l'ho credo tutti dice una settimana le persone prima di partire per un viaggio addirittura hanno dei programmi organizzati ora per ora che decidevo so che leggevo perché vabbè non c'entra niente ma bazzare al bazar sto leggendo i diari di viaggio di james cook ma un viaggiatore insomma quello che ha scoperto l'australia e australiano quindi c'entra parliamo di australia perché anche micodelli che conosce anche tu è stato in australia pure lui vabbè insomma james cook alla fine mi sono appassionato di polinese perché quello ha scoperto isole pazzesche vado a vedere vado su trip advisor come si perlustra la polinese eccetera e guardavo sta gente che dico minchia ma vai dall'altra parte del mondo tre settimane polinesia cioè nella testa cosa ti entra non so un immaginario di libertà di stacco da tutto e tutti e invece stavano lì le discussioni su trip advisor erano ma secondo te è meglio se faccio tahiti prima o quando arriva tahiti devo dormire tahiti e poi vado a salcazzo l'isola o è meglio che dormo alla fine ma vai basta ma quello non è viaggiare quello è andare in vacanza no io questo insight ce l'ho avuto nel deserto subito fuori da lima allora lima a lima non piove mai proprio mai infatti non ci sono gli zoccolini di rialzo sotto le finestre perché sui nelle terrazze non è prevista precipitazione di pioggia e quindi non entra l'acqua e stavo su questo camioncino uscendo fuori da lima ci sono delle baraccopoli diciamo come se fossero delle delle favelas ma non piovendo molte non hanno il tetto queste baracche fatte di lamiera non hanno il tetto ma non sto dicendo dieci baracche sto parlando di decine di migliaia di di cubicoli dove le persone alla fine giornata vanno e si mettono e si coricano quindi passando sulla strada rialzata vedevo tutte le persone dentro casa loro era tipo un de sims sì era pazzesco e ho visto vedendo queste persone dico questa persona sta qui dall'altra parte del mondo rispetto a me e sta facendo la sua vita e la sua vita è importante esattamente quanto la mia c'ha le sue preoccupazioni mi sono sentito piccolo e parte di qualcosa di più grande ho detto ma cosa conta quello che io ho nel programma di viaggio un minuto dopo per quello conta non so a che ora dovremmo mettere la sveglia domani mattina o che gli è entrato il granello di polvere dentro l'occhio le cose migliori nei viaggi che ho fatto sono sempre capitate quando non non erano previste cioè l'obiettivo è quello di creare la possibilità che accadano cose impreviste quindi non programma niente quello è il viaggio è salire su una nave e che più o meno sai che devi arrivare dall'altra parte del mare e poi succedono delle cose nel frattempo e poi c'è una parola per esprimere quel concetto che si chiama sonder sonder c'è la realizzazione che qualunque altra persona che passa random sta vivendo la sua vita con tutta la sua comprensione è un termine svedese così sonder in effetti e suona non so dove c'è anche la famosa frase che dice ricordati che quando incontri un'altra persona sappi che anche lui come tutti quanti sta combattendo la guerra quando ti arrabbi con qualcuno è un tema molto legato all'empatia molto nobile c'è molto bello e no cioè veramente mi rendo conto che è funzionale live design quello e noi il live design l'abbiamo portato la gente a balli in indonesia a farlo e ha ottenuto risultati perché li abbiamo portati in posti assurdi io non potrei fare live design in brera cioè qui a milano tutto rispetto no non è non ci sono le precondizioni è un percorso che va fatto separati più possibile energeticamente dalla vita di tutti i giorni e continueremo a farlo anche tu adesso fai eventi facevi insomma adesso col covid no io diciamo non amo fare eventi a parte il festival del podcasting che al quale ci ha invitato e ti ringraziamo del podcasting che per te mi sono trovato dentro e non amo organizzare perché credo che ci sia anche un pericolo nell'organizzazione dell'evento del famoso effetto elastico cioè io ti porto fuori ma questo portarti fuori e darti diciamo crearti un contesto diverso nel momento in cui io ti riporto nel tuo contesto sono cazzi amari sono cazzi amari e quindi rischi di creare da una varie possibilità la dipendenza dagli eventi per cui sono quelli che stanno a ruota con gli eventi you got it io ho degli amici che compro i biglietti degli eventi e poi mi dicono mi accompagna l'evento mi accompagna l'evento ti dico scusa ma questo il biglietto costa 5000 euro ne ho presi due perché poi ho detto magari non è vero c'è pensa c'è potevo averne due a prezzo quindi diventa una dipendenza e non riesci ad avere il tuo baricentro esistenziale ben poggiato perché lo poggi nella motivazione che riceverai dal formatore nel fatto che mi rigenero proprio a questo evento nel fatto di prendere diciamo continuamente olio l'olio per la tua lampada lo prendi dall'esterno un altro pericolo è che vai lì dici hai un momento alla tony robbins no ho capito che devo mollare il mio ex ok allora chiamalo mollalo qui davanti a tutti ti agli dai il telefono e poi tornando a casa sei rimerso nella realtà di prima e dice allora è stata tutta un'illusione e quindi diventi ancora più disilluso rispetto alla possibilità di cambiamento vero infatti noi l'abbiamo visto in tante persone anche tra i nostri corsisti subire questa cosa e c'è solo un modo per fare in modo che non accada è seduta stante durante l'evento pianificare bene infatti nel live design uno degli step che noi inseriamo sempre quello della pianificazione secondo me voi non vi rendete conto del vostro potere no noi ci rendiamo conto pienamente no 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 noi ci rendiamo conto infatti durante i venti dal vivo io li mando tutti a cagare i nostri corsisti proprio per dire dopo c'è in che senso in che senso allora vi racconto questa storia che vi riguarda personalmente che però voi non conoscete veramente musica suspense ce l'abbiamo allora io ho scoperto voi due mentre vivevo in sud australia ok mi ricordo in sud australia correndo e ascoltavo un sacco di podcast diversi ce n'erano pochi al tempo poi ne parliamo veramente ce n'erano pochi quindi ho cominciato ad ascoltare e ascoltavo le vostre telefonate no ho trovato geniale perché il mio primo podcast il podcast in cui ho partecipato con valentino spataro era una telefonata tra amici su skype e voi vi telefonavate su skype penso proprio tu stavi al supermercato in belgio no tu stavi a bruxelles quindi no sto al supermercato ho sentito subito un'affinità e allora ho cominciato a seguire voi facevate a un certo punto ho capito che vi occupavate anche di soldi in qualche modo e i soldi sono una cosa sulla quale io ho sempre avuto un grande disinteresse e una grande ignoranza infatti mentre vivevo in australia avevo la gestione del mio patrimonio affidata a una professionista che lavorava per una banca questo fatto di ascoltarvi mi ha fatto desiderare di maturare una maggiore consapevolezza non so se l'avete detto voi una volta in un podcast o mi è venuto in mente mentre vi ascoltavo ma a un certo punto ho detto cazzo uno fa tanta fatica per guadagnare i soldi poi li metti in banca o li affida a chi può gestire questo patrimonio e se ne disinteressa ma tu ti dovresti interessare della mela che hai raccolto dall'albero che hai coltivato non sempre di mettere acqua nell'albero e poi le mele e poi le mele tranquillo perché che cosa è successo è successo che a un certo punto gli ho detto senta mi spieghi un attimo una cosa io sono un ignorante completo ma qua ci avevo messo dieci mele ok ora lei viene qua a dirmi tutto benissimo fighissimo sta andando tutto benissimo però io di mele ne vedo otto com'è no perché noi siamo entrati in una condizione di mercato e perché vede quali indice e qua io non capisco un cazzo però vedo che quasi sono otto mele e prima ce ne erano dieci mi fa capire un attimo magari può essere anche che non ce ne siano undici ma perché ce ne stanno otto e allora lì ho detto mi devo prendere la responsabilità e mentre andavo a prendere il mio suocero in aeroporto mi ricordo ho ascoltato del lancio di un vostro corso che era sul surfing the pips ok un corso di trading su forex ho mai fatto trading su forex mai però quel corso è stato fantastico l'ho acquistato e l'ho fatto sì sì è rivenuto a roma sono poi venuto a fare un evento ma la potenza di quel corso è stata la lunghezza infinita perché content is king perché quel corso con il fatto che ascoltavo io portavo mia figlia a terapia e mentre aspettavo che lei facesse logopedia ascoltavo ascoltavo Enrico che mi spiegava le bande di Bollinger il prezzo il mercato è rialzista e poi ascoltavo Davide che mi raccontava altre cose spiegavale e mentre ascoltavo queste cose avevo il tempo di cambiare di maturare di cambiare il mio approccio al denaro ed è stato fondamentale il fatto che fosse distribuito nel tempo per questo dico avete un potere che secondo me non realizzate perché una cosa è l'evento una cosa è dire ora torni a casa e fai i compiti una cosa è inserire un piccolo virus di sistema che sta lì un phantom che sta lì che gira un nel sistema operativo della vita e cambia piano piano la funzionalità del sistema che in quel caso per me è stato il corso perché l'ho ascoltato l'ho ascoltato frammentato ma ci avrò messo un anno e mezzo a farlo intero ti ringraziamo sai che tanti corsisti nostri iniziano a fare i nostri corsi perché vogliono guadagnare più soldi e quasi in tanti non tutti però in tanti poi sai che ho iniziato per i soldi ma poi ho trovato altro e ho ottenuto vantaggi ben superiori a quelli che mi aspettavo e potrebbe essere anche pianificato ma non lo diremmo mai in realtà poi c'è gente che guadagna e guadagna bene poi chi applica e chi si applica però quello che dici te si ha senso guarda mi è piaciuto molto quello dicevi prima lo percepiamo tanto anche noi adesso purtroppo siamo sotto pandemia non si possono possono fare gli eventi però era nata la fomo degli eventi cioè fear of missing out cioè le persone i concerti ma cazzo concerti non fanno tempo uscire tutti esauriti non era mai non succedeva prima il tanto sugli eventi motivazionali barra di formazione no quello che è accaduto in questo anno invece di pandemia che ci sta un po scioccando a me ricco e siamo molto curiosi di sapere cosa ne pensi tu è la l'esplosione della bolla del contenuto digitale barra formativo barra anche di intrattenimento su sti cazzo di cosi cellulari eccetera cioè l'hai detto tu poco fa no e ti ricordo quando ascoltavo il vostro podcast eravamo pochi io te e altri tre o quattro adesso se non hai il podcast se non è se una macelleria e non hai un podcast se non sfigato nel senso che chiunque un podcast ma è giusto così è cioè non sto giudicando magari il mio podcast fa meno più cagare di uno che in realtà sulla carne si può dire un sacco di robe anzi è una bella idea si dobbiamo invitare braccia mi ancora c'è in realtà adesso noi nel nostro whatsapp di gruppo del bazar parliamo dei metodi di cottura alternativi della carne no tra l'altro braccia mi ancora ci ha commentato un nostro video contattiamo braccia mi ancora che facciamo in diretta braccia mi ancora vieni al bazar atopico e c'è questa roba assurda c'è praticamente è cambiato tutto in italia nel senso che si è digitalizzata una nazione che non lo ha fatto per vent'anni lo ma lo ha fatto in venti giorni e noi stiamo vedendo come questa cosa abbia causato dei problemi nel senso che c'è un affollamento esagerato di tutti che fanno contenuti ed effettivamente per noi che facciamo formazione facciamo delle cose anche di un certo spessore ma non perché le faccio io perché comunque non è intrattenimento puro per quanto il bazar anche lo sia ma comunque c'è dietro la voglia di insegnare qualcosa che poi nella vita ti serve no quindi nel business negli investimenti nello sviluppo personale e però cazzo se sulla stessa piattaforma dove prima c'ero io c'eri tu c'era a dario vignali c'era chi c'è buono lo so un altro adesso alla sera c'hai fabio volo in diretta c'è giovanotti in diretta c'hai la diretta leotta con le sue le otte che si che si che si mostrano c'è belen in diretta non so come dire è cambiato tanto come si fa per una persona soprattutto che vuole utilizzare il digitale per fare business quindi che ha un vuole aprire un centralistico vuole aprire un suo una sua startup dopo il covid competere con i mostri del vip tutto questo sovraffollamento digitale per farsi ascoltare per differenziarsi non credo che le convenga farsi ascoltare c'è l'obiettivo suo non è farsi ascoltare il suo obiettivo è creare delle relazioni perché poi c'è anche la schizofrenia del dire oh ho creato un podcast ascoltatemi scusa ma l'hai detto alla tua compagna a distanza no e cazzo vogliono dire cioè io vedo un sacco di podcaster che per passare da zero a 100 ascolti magari pagano una campagna su facebook ma poi non lo dicono agli amici manda un telefona ai tuoi amici di dio c'è un podcast questo è il link ottimo non ce l'ho pensato quindi credo che l'antidoto a tutta questa digitalizzazione fatta in maniera priva totalmente di strategia sia ripartire da quello che ha reso gli esseri umani vincenti anche evoluzionisticamente cioè dalla capacità di entrare in relazione io vengo il mio cervello ed è il motivo per cui quando vediamo una pubblicità con la faccia un essere umano mettici la faccia perché perché il nostro cervello è imparato per è programmato per interpretare le espressioni umane quindi io ti vedo e c'è un si attivano delle parti del cervello che mi fanno capire che cosa stai pensando di me o che vorrebbero farmelo capire come stai sei arrabbiato sei triste sei mi sei nemico mi stai per attaccare oppure stiamo per scoppiare a ridere insieme e tutto questo per facilitare la relazione perché se io e te siamo insieme siamo più forti più forti della somma delle nostre forze semplice uno più uno fa tre in questo senso come si costruisce una relazione allora questo che facciamo perché perché uno potrebbe dire allora perché fa il bazar atomico quello che stiamo facendo qua secondo me cioè il motivo per cui io sono stato contento oggi di venire qua e che noi lo stiamo creando il pensiero stiamo producendo pensiero stiamo producendo i virus che faranno manderanno in corto circuito le teste di altre persone ma in maniera magari molto indiretta questi pensieri nuovi che nascono qui sono il vero valore non è il fatto che poi c'è un contenuto che lo metto su youtube youtube scoppia di contenuti però poi abbiamo il podcast ma chi vuole ascoltarti quindi è l'importante è la relazione tra noi il fatto che noi oggi qui autenticamente riusciamo a essere in relazione riusciamo a fare questa cosa magica che è mettere in comunicazione dei sistemi diversi tra loro abbiamo cinque sistemi diversi tra loro che attraverso l'interfaccia del linguaggio si integrano e creano qualcosa di nuovo che poi ognuno di noi salva sui nostri propri hard disk e applica come strumenti nella realtà uscito da quella porta io sarò forte anche di tutto quello che abbiamo creato insieme ma se faccio l'avvocato del diavolo ok va bene però se ce la cantiamo ce la suoniamo avremo poi più possibilità di essere ascoltati anche dagli altri secondo te o chi se ne fotte cioè l'ascolto avremo più possibilità cioè una cosa che io posso fare nel momento in cui non so come farmi ascoltare e ascoltare quindi questo lo posso fare benissimo no posso andare là fuori su instagram invece che cominciare a pubblicare foto a vedere che cosa stanno pubblicando gli altri entrare in dialogo con loro qualcuno mi ignorerà e quelli saranno dei rami secchi altri invece mi risponderanno quindi braciami ancora ti ha commentato tu gli risponderai lui poi ti risponderà e poi dirà un suo amico questi mi hanno risposto no come tutti gli altri stronzi che non mi rispondono mai capito quindi è una triangolazione vediamola in maniera più strategica triangolazione tra brand contenuti e relazioni ma perché se pompi il contenuto tutti possono fare podcast no pompi il contenuto ma poi se tu al muschio selvaggio gli mandi il messaggio ti risponde no allora ti manca il piede della relazione il piede della relazione fa sì che a distanza di anni una persona verrà e dirà sai quel giorno davide mi hai mandato quel messaggio vocale mi hai detto quella cosa quella cosa ha fatto così e poi ho preso questa decisione è cambiata completamente la mia vita io le cose che ho imparato da voi mi hanno fatto fare 100 mila euro non sul trading applicandole a un altro campo però mi hanno salvato in questo senso e grazie piace molto quello che hai detto mi ha risuonato non ho ancora capito dove ma adesso lo sto capendo no nel senso che è vero cioè guarda sai cosa mi ha ricordato mi ha ricordato un articolo che ho letto sul post in cui si spiegava perché gli autori di libri anche famosi fanno tour nelle librerie dove magari ci sono 20 30 persone magari non so ti trovi che ne so ditemi un autore barricco ma anche di più una star anche sgarbi cioè se non tanto si vede sgarbi che va degli eventi con 30 persone dice ma che ci va fa vabbè sgarbi lo sappiamo perché va in giro però al netto della figa che comunque è vero che quella tira però dopo un po tutta la vita beh no forse sì però al netto di quello l'articolo del post proprio prova di questo non ho proprio studiato tu se hai un contatto diretto con una persona quindi stauri una relazione il più possibile profonda ci sono varie sfumature quella che dici tu è una relazione digitale che può anche quella avere più sfumature può essere del tipo io parlo tu ascolti fottiti può essere no costruiamo qualcosa che anche di tutti cioè io lo star tappato ma poi diventa di tutti cioè infatti bazar non so micodelli per dire noi non sapevamo neanche chi fosse ma perché non seguo youtube però sotto mi hanno detto guarda che voi dovete parlare con lui perché siete molto simili a lui l'ho guardato detto ma certo vieni e lui è venuto è nata una relazione ci sentiamo e questo articolo diceva gli autori girano il paese anche per piccole librerie perché quando tu installi un rapporto dal vivo fac adesso non si può più fare però si rifarà quando è che si rifà pucca dai che si rifà ma cos'è che si fa quando non ho capito quando è che si iniziano a fare l'erima non lo so speriamo quest'estate lui dice una volta che tu vedi dal vivo una persona devo parlare più semplice quando tu parli con una persona dal vivo quella è tua per sempre cioè è proprio provato nel senso tu gli firmi un libro quello ti leggerà tutti i libri cioè non so se è creato una relazione in effetti quello è un good point di dire non serve essere fedez con 10 milioni di followers su instagram parti piano ma costruisci relazioni più profonde ed è il motivo per cui abbiamo creato il bazar atomico che non è fare l'ennesimo contenuto cioè anche fare l'ennesimo contenuto su youtube cercare di fare qualcosa di diverso dagli altri ma il motivo due motivi principali avevamo ma uno di questi due motivi era intessere relazioni con chi veniva quindi avere l'opportunità un motivo per invitare gente che già conoscevamo magari come te però dove non hai occasioni per vedersi e farsi una cacchierata e gente nuova da conoscere crea l'occasione crea l'occasione io ho intervistato migliaia di persone nella mia vita e questo è stato infatti ho pubblicato due giorni fa un corso che ho regalato a tutti i miei finanziatori su come fare interviste perché l'intervista è l'accheraggio della crescita ti sembra che beh allora è un trucco così creo contenuto perché io non devo essere interessante e invito Enrico Garzotto lo faccio parlare lui crea il contenuto e quindi è comunque un trucco per creare contenuti di valore se riesce a portare persone con idee di valore ma soprattutto è un trucco per cambiare il tuo mindset perché per parlare con determinati io mi ricordo la prima volta che ho intervistato voliviero toscani ah ci ho fatto una tesi all'università pure io l'ho intervistata all'inizio non riuscivamo a parlare non riuscivamo a dialogare tra noi perché parlavamo due lingue diverse lo sai come l'ho hackerato con ritorno in cuffia gli ho messo le cuffie durante l'intervista cambia tutto perché lui ha sentito la sua voce è passato a una dimensione estetica cioè dove attraverso i tuoi sensi attraverso i tuoi sensi esperisci qualcosa e ascoltandosi non si è piaciuto evidentemente e quindi è cambiato quindi dal suo essere estremamente fastidioso un vero e proprio cazzo nel culo relazione relazione conosciamo tutti e allora a quel punto si è diventato una pecorella una persona fantastica umile ha cominciato a raccontare le sue cose a mettersi a essere anche auto ironico è stato bellissimo beh quello comunque sicuramente c'è il trucco tecnico ma probabilmente anche tu che posso garantire essendo avendo subito scherzo tra virgolette tante tante no però qualche tua intervista sai veramente mettere a tuo agio ringrazio agio le persone da loro agio scegli tu allora noi usiamo dei trucchi pratici per mettere a loro agio le persone ed è lo champagne drogato no io però che tu non hai bevuto no in realtà è un'arte pazzesca quella di sapere intervistare ognuno al suo stile tu sei veramente portato cioè hai la perché colte 6 e 6 da dove deriva questo si connette a quello che ho detto all'inizio cioè il fatto della tua naturale tendenza all'empatia con le persone che è quella che hai raccontato quando hai guardato e sei andato a lì ma che magari hai visto non so il maciupiccio ma cosa mi hai raccontato il fatto che hai visto la vita dall'alto delle persone comuni quella è la tua è la tua ragione di vita magari è una abilità ma è anche un punto debole io il mio maestro di interviste che mi fa sempre il culo si chiama robin good è il primo e lui mi manda carissimo amico ormai da tanti anni che abbiamo prima collaborato e poi siamo amici e mi manda dei messaggi incazzatissimo che cazzo hai fatto allora se devi fare delle interviste così smetti di farle perché l'empatia ti impedisce di portare l'altro su terreni scomodi cioè di dire e chi l'ha detta sta cosa no è una cazzata gli eventi cambia live design ma che sta cazzata e quindi ti impedisce di aiutarlo veramente perché ti impedisce di portarlo in un terreno che non è quello che lui si è costruito intorno e quindi di pensare in una forma più ricca per ampliare la propria zona di comfort c'è un amico si chiama piero ma una volta mi ha detto la uscire dalla zona di comfort non vuol dire andare in un luogo sconosciuto e rimanerci oppure per poi ritornare nel tuo ma ampliare la tua zona di comfort e quindi è bellissimo uscire fuori dalla zona di comfort perché all'inizio hai un po di perturbazione emotiva e mentale poi è bellissimo perché riesci a stare a stare al mondo veramente la metratura del tuo appartamento aumenta gratuitamente insomma bello bello allargare la propria visione ma festival podcast prima hai detto visto che parlavi adesso di parlavamo di questo no mi hanno tirato in mezzo quindi non è una tua idea no è una mia ci sono ritrovato dentro ok perché tu immagina la mia vita quotidiana in australia mi sveglio a correre torno porto le bambine a scuola e poi metto tranquillo dentro il mio studio andavo o nel in un business center nella city di adelaide in adelaide diciamo la città principale sud australia che però una città dove nessuno va turisticamente se non per passare e andare a kangaroo island e quindi andavo business center mi facevo le mie cose però questo fatto di ascoltare i podcast mi metteva in un cortocircuito costante con la cultura nella quale vivevo perché in fondo quelli che facevano podcast al tempo magari anche cambiato però si facevano tante domande cioè l'italiano vive delle domande che si fa sulla realtà mentre l'australiano vuole avere le sue cinque risposte e andare dritto su quel binario lì e quindi mi trovavo in questa continuo combattimento a un certo punto ho detto no ragazzi io voglio cioè voglio qualcosa di forte una roba tutti insieme e quindi ho organizzato il primo festival podcasting ero io dentro la stanzetta a del mio studio al mezzanotte perché poi per il fusolare avevamo nove ore di mezzo di differenza che parlavo con degli amici che facevano podcasting dall'altra parte del mondo e gli chiedevo ma tu che io utilizzo questo microfono e tu e io faccio così e tu e quindi di fatto il festival del podcasting eravamo quattro stronzi appassionati di questa cosa maledettamente che ci aveva cambiato la vita e che ne parlavamo tra noi pensa che il secondo anno quindi secondo festival del podcasting ero in italia e ho detto ma io manco lo faccio e invece gli altri mi hanno detto stiamo parlando del 2018 stiamo parlando dunque 2016 quindi 2017 2017 e gli altri podcast ma come lo fai stavo fighissimo dai facciamo anche un solo giorno perché il primo festival era una settimana un solo giorno vabbè un solo giorno sono andato negli studi radiofonici di radiospeaker e oppure detto ragazzi se volete potete venire dal vivo al festival potete venire e partecipare sai quante persone sono venute zero una tu che però io c'ero chiara è venuta chiara chiara che manco c'era un podcast mi ha confessato poi che quando è entrata dentro lo studio radiofonico che mi ha visto che ero da solo con la telecamera davanti ha detto ammazza che sfigato perché gli sembravo pazzo ha detto un pazzo è un genio perché tu immagini il festival del podcast e c'è uno dentro la stanzetta del microfono davanti alla videocamera è meglio il festival della sarsiccia però questa cosa intanto ha lavorato e quindi già la terza edizione quando l'abbiamo portato al vivo eravamo 500 l'anno dopo quando siete venuti voi hai visto che non si entrava più dentro cioè c'era gente fuori incazzata perché perché era qualcosa che se a me mi fa bene mi cambia la vita sai la foto che gira su internet te lo auguro di jeff bezos che sta lì dici amazon appiccicato io ho certe foto tipo io faccio podcasting dentro la dispensa in australia quindi con tutti i pacchi di pasta le cose e no è stata una figata devo dire che noi non andiamo mai gli eventi che ci chiamano in ci chiamano perché non andavamo se non per parlare male del podcast esatto perché noi siamo andati là abbiamo detto noi andiamo però diciamo visto che quello che hai detto tu prima legato all'autenticità quello che ti ha detto robin good non è che uno deve sempre fare la condizione no io vado là io ho detto ma ce l'abbiamo il coraggio di dire le cose che pensiamo veramente del podcasting che oramai è una vita fa sono cambiate anche tante cose però è quella la bellezza io ti chiamo per farmi una marchetta è tutto bello libertà loro sono arrivati hanno fatto non è tutto oro quel che luce ultimo intervento quello che dovrebbe in realtà pettinare gli animi abbiamo demotivati tutti ragazzi ragazzi non vincula nessuno c'è una lottica dovete farvi un culo pazzesco perché comunque il podcast il podcast se non sei preparato non riesce a farlo comunque di fare contenuti tenere l'attenzione deve avere talento previ saper parlare di sapere con poter studiare perché uno dei motivi per cui abbiamo fatto un altro per cui abbiamo fatto questo podcast e che era una lista avevamo smesso di approfondire le cose che fa la gente perché comunque quando è un lavoro è un progetto tendi a verticalizzarsi solo su quello che fai tu e vivi in un cazzo di mondo chiuso invece dici o sai com'è ma arriva lui mi devo studiare quello che fa arriva il monaco mi devo studiare libri del monaco arriva quell'imprenditore e si allarga la mente cioè che esci al mondo e che rifai ritorni nel tuo business con energia trasforma completamente trasforma e durante quel podcast il festival del podcast in lì noi avevamo detto attenzione perché è vero è una figata pazzesca è una potenza incredibile e tra l'altro è molto cool perché lo vediamo che oramai come abbiamo detto prima tutti tanti fanno un podcast ed è val di là della di quello che abbiamo detto noi perché noi abbiamo detto guardati comunque in italia stiamo parlando così a 2019 che siamo venuti il popolo della gente che ascolta i podcast è veramente piccolo perché due anni fa adesso ci dimentichiamo due anni fa veramente i podcast in italia veramente poche persone visto che ha aumentato tanto quando è arrivato spotify ho questa sensazione qua è stato è stato il game changer oh ragazzi ieri evento epocale jeff bezos ha aperto le porte di del mondo amazon quindi audible e amazon music ai podcast ed era l'ultimo pezzetto che mancava del del puzzle allora dall'arrivo di spotify perché loro spingono i podcast ci avete mai pensato loro chi spotify perché godea e amazon music perché godono a portare il podcast sulla piattaforma e gli ha fatto impazzire tutto è quello che mi chiedevo pure io ma perché hanno dato tutti questi soldi a joe rogan cioè forse tu finalmente ci sei rispondendo esatto bravo bella domanda perché per un joe rogan joe rogan che pagano ce ne sono altri 10 milioni che non pagano cioè loro se io ora apro spotify e vado ascoltare la canzone del piotta il piotta prende dei soldi due minuti e mezzo di canzone il piotta ha preso dei soldi se tu vieni su spotify e ascolti un'ora e mezza di podcast di giulio caudiano io non prendo una lira quindi loro hanno retention quindi persone che utilizzano l'app a lungo che ci ritornano per un contenuto che hanno pagato zero e quindi economicamente è fantastico e poi ho visto che ci ha aperto come sento una ascolto una canzone oppure intanto le ore del giorno sono quelle ragazzi ci abbiamo 24 ore al giorno per cui quando hai ascoltato podcast e non l'hai pagato e comunque stato sull'applicazione loro agli azionisti dicono guarda quanto che retention che abbiamo di utilizzo dell'app e quindi che cosa succederà ed è il motivo per cui nell'ultimo festival del podcasting abbiamo creato e lanciato l'associazione italiana podcasting nel futuro i podcaster saranno più consapevoli non si vergogneranno di fare podcasting per cui no non l'ho detto perché poi lo diranno che sono anzi faranno che lavoro fa il podcaster perché proprio come il musicista il podcaster che farà un contenuto potrà e dovrà essere retribuito per quello che fa non ce l'avevo mai pensato sì perché gli youtuber la pubblicità ce l'hanno qualcosa gli youtuber poi c'hanno un altro discorso perché c'hanno il triangolo malefico cioè la dinamica economica di youtube è terribile perché io faccio video tu vieni a vedere i miei video perché ti piacciono no quindi però prima prima di parlare vedi la pubblicità delle caramelle quindi io vendo la tua attenzione a un terzo come diceva renatone il triangolo no non l'avevo considerato cioè e alla fine è un tradimento cioè la dinamica fondamentale la dinamica del tradimento su youtube tu vieni per stare con me e io ti spingo a tradirmi e tradisco la tua fiducia perché la vendo a un altro se ne parliamo spesso no che youtuber si vergognano di dire che guadagnano tanto e fanno sempre sti video guadagnato quello che guadagna c'è sempre sta che c'è di male guadagnare però quello che stai dicendo te prima prodotti ad esempio tanti podcaster in america fanno la pubblicità dentro i podcast a me mi piace così a me piace la monetizzazione diretta atti lo champagne ruin art comunque che stanno bevendo oggi è veramente buono è stato pagato pagato da voli surfers puntocom questo sai cos'è questo è un metodo allora siccome ovviamente non ci incula nessuno per adesso è però vediamo tra 50 ma questo è il trucco che hanno usato un sacco di influenzere certo cioè loro dicono non mi incula nessuno io faccio pubblicità per finta così gli altri brand dicono cazzo quando fa pubblicità dobbiamo entrare se l'ha fatto la ruin art champagne si chiama queste barrette be kind ma è buonissimo ma persino le auto di formula 1 hanno un sacco di ferrari è fighissimo ci sta un film si chiama metodo richard branson che ha iniziato la sua carriera così ovvero aveva fatto il giornaletto della scuola delle scuole dell'università o persino del superiore non mi ricordo bene lo scrive nella sua biografia like a virgin e cosa faceva chiamava uno sponsor diceva oh ma sa che l'altro sponsor mi ha dato i soldi poi chiamava l'altro sponsor sai che l'altro sponsor mi ha dato i soldi quindi in realtà era tutto finito e alla fine tutte e due gli davano i soldi funziona io lo posso testimoniare non è proprio forse non ho fatto finta però è così cioè noi quando mandiamo le proposte ai disposto del festival podcasting le mandiamo in anticipo tanti mesi prima e tutti fasi interessante poi risentiamo cioè nel momento in cui confermano la prima vanno a catena boom 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 cioè io ho avuto degli sponsor che il giorno prima non abbiamo tempo di fare niente cosa è rimasto cioè perché vedono che ci sta l'altro no uno uno tira l'altro e questo è un bel tool un bel tip per le persone l'ho consigliato ieri ho fatto un video su sulle podcast sponsorizzati ha visto alla fine dico ragazzi comunque per capire il vostro potenziale commerciale andate su amazon fate l'affiliazione amazon prendete i vostri link tracciati e promuovete i prodotti in vendita su amazon c'è tantissimo quindi cominciate a dire ragazzi queste caramelle sono buonissime e vedete se le persone le comprano tu dal link tracciato dell'affiliazione vedi se hanno comprato le caramelle quante ne hanno comprate e vi dico anche un'altra cosa vedi gli altri prodotti che hanno comprato cioè solo per quello io a tanti scrittori consiglio di fare di promuovere il proprio libro con il link affiliato dice ma che ce faccio con i due spicci ma no perché vedi i prodotti che gli altri libri che vengono comprati dalle persone ti svelo una cosa capisci anche tanto del tuo target assolutamente tantissimo infatti vi svelo una cosa perché adesso stiamo lanciando il libro abbiamo messo il link affiliato bravo e noi non ci vergogniamo con gli youtuber scherzo abbiamo fatto pochissimi euro ovviamente però quando sono andato a vedere è la prima cosa che faccio proprio per curiosità e formazione professionale vedere tutto quello che comprano e mi è stato all'occhio che tanti libri un libro per ogni libro cioè quindi però c'è una cosa che aveva due acquisti ed era il sifone della doccia e quindi ho detto non si davano i nostri corsisti non so perché due persone ho acquistato i due sifoni della doccia niente mi faceva molto ridere magari si lavano tanto questi lavano tanto con il bisogno di cambiare la qualità di filtraggio della cosa senti ma giulio visto che stiamo parlando di sponsor eccetera com'è il tuo modello di business c'è tu in strategia digitale hai creato un environment è creato una community allora ma il tuo modello di mio padre no sì anche no poi so che hai fatto al funding diciamo che il mio lavoro è provare i modelli di business per poterli poi raccontare agli altri ok raccontare non perché l'hai letto su un libro perché hai visto il video dello youtuber americano ma perché l'hai provato e cazzo funziona lo dico io questo è quello che è il numero reale allora al momento penso che il modello di business prevalente c'è quello che porta più grano sia proprio patreon che è stata una scoperta io l'ho provato tra tutte le cose che testo stavo in australia al tempo infatti ho cambiato la valuta qualche giorno fa e quindi si parla di cinque anni fa patreon non lo usava nessuno in italia ma lui è un vanguardista è australiano è biondo vedi è biondo scrive a jack conte che l'artista che poi ha creato patreon e tutti i due principali modelli di crowdfunding con quel di quel tipo lì che è un mix di robe che ora diciamo sono stati creati da due artisti pure il tp il francese è stato creato dal figlio di uno dei più grandi cantautori francesi quindi è curioso no che è l'artista che ha pensato a un modello di business che può sostenere la creazione dei contenuti allora lo provo dico vabbè testiamo lo creiamo poi dico gli ascoltatori del podcast sto testando questa nuova cosa e vedo bing 27 euro 27 dollari bello forte mese dopo 38 dollari ma pensa te ma non è che facevo nulla cioè c'era semplicemente questa campagna aperta poi mese 57 92 115 cazzo ma forse è una roba seria cioè una cosa dove tu non metti nessuno sforzo in maniera naturale cresce anche di poco però fammi vedere se ci metto qualcosa e allora ho cominciato a studiarlo più approfonditamente ho addirittura poi creato un corso di crowdfunding perché ho capito qual è lacheraggio di patreon mixare il reward crowdfunding quindi quel tipo di crowdfunding che tu mi dai dei soldi ma ti do un premio aggiungere che il premio è un premio digitale quindi infinitamente replicabile e quindi invece di tu mi dai soldi io ti do la barretta che ho prodotto e poi mi costa produrne altre ne ho prodotto a una se mi sponsorizzano se mi finanziano una cento mille persone per me è esattamente uguale e il terzo elemento è la ricorrenza vi ricordate quando da piccolini avevamo esplorando il corpo umano oppure i modellini in edicola mio padre collezionabili maniera molto cinica mi diceva guarda prendiamo il costo della singola uscita moltiplicamolo per il numero di uscita viene fuori 300 mila lire allora io ti do 300 mila lire e andiamo ora in questo momento a comprare un modellino completo oppure una collezione completa di mille di minerali ma ti veniva una roba pure più figa di quella che dice no ma non mi compri minerali con 300 mila lire un'altra cosa no quindi lo faceva per far sentire questa e poi ho lavorato con editori che fanno collezionabili e ho visto anche la strategia commerciale che c'è dietro cioè loro partono con un prezzo molto basso e poi lo alzano sempre di più fino al grado di tollerabilità per tenerlo fino al numero di uscite e se vedono che si continua perché le persone che le comprano piano piano diminuiscono diventa uno zocco duro ma piano piano se le perdono nel tempo se vedono che continua aumentano il numero di uscite per esempio ho creato personalmente facendo anche le ricette una un collezionabile sulle ricette per il bimbi il robot da cucina che è diventato dove essere un collezionabile tipo 30 uscite diventa è durato cinque anni perché le persone continuavano a comprarlo allora questo elemento della ricorrenza fa sì che se ti dico senti ma mi dai 12 euro 12 euro me dai uno al mese bene ok dopo 12 mesi mi hai dato 12 euro io ho finanziatori io a volte sono grato e imbarazzato quando vedo questi numeri perché padre non la cosa bella che quando entri ti fa vedere persona per persona quanto ti ha dato quella persona nel tempo e a me fa uscire di testa vedere che alcune persone mi hanno dato 8 mila euro la singola persona 8 mila euro un ascoltatore di podcast che ha deciso di finanziarmi complimenti e quindi a un certo punto ho passato i 100 mila dollari e ho detto ragazzi questa è una cosa che mi ha insegnato perché una volta che passi i 100 mila dollari per un per una campagna di crowdfunding che poi voglio dire sembra che io non sono una web star no infatti cioè ho dei numeri ho una community ridicola da ridicola ho quelle famose mille persone mille persone che ascoltano le cose che faccio che mi seguono da anni che con le quali sono in contatto che riconosco bene ha sviluppato quel tipo di ritorno ed è stato bellissimo perché sai che stai lavorando per le persone che ti apprezzano veramente no ecco questo si sposa anche a quello che ho detto all'inizio no cioè noi invece che invece siamo dei megalomani e vogliamo diventare una web star io lo dico sempre io morirò web star piuttosto faccio come quello che si è suicidato l'altro giorno questo nonno di 82 anni diventi una web star da morto perché ti sei schiantato col non voleva andare in casa di riposo e ha fatto questo atto che secondo me andrebbe citato in prima pagina su tutti i giornali per la sua atto poetico e struggente drammatico con un deltaplano si è lanciato dalla cima di un attreviso dove era in veneto non mi ricordo dove e si è suicidato lanciandosi con il deltaplano schiantandosi contro una montagna e noi hanno ritrovato col sorriso ecco io piuttosto di essere web star finirò così lo dico c'è una canzone che si chiama jesus christ web star famosa in italia nel senso che comunque c'è una componente egoica in noi e soprattutto in me magari più spinta della tua e quindi all'inizio mi sono detto caspita adesso il mondo digitale è cambiato sono arrivati vip c'è meno spazio per gli esperti del settore che eravamo noi prima e quindi il mio ego va in ansia ma guarda che le web star non sanno come monetizzare in realtà cioè a me mi ha colpito conoscete marcello ascani sì certo è certo allora marcello ascani verrà 4 cioè certo l'ho conosciuto poche settimane fa perché mi ha parlato lui mi ha colpito ha dei numeri enormi sì no poi 700 mila è veramente bravo veramente bravo vorrei essere bravo come mi ha colpito quando ha lanciato la sua membership uno mi colpisce che lanci ora la tua membership dopo anni che coltivi una community no due e quindi vuol dire come hai campato finora hai campato con le ads o con delle ads rese diciamo la versione pro che sono l'azienda che viene da te e ti dice ok ti pago mi fai il placement mi fai virtual video dipendi da un altro io sta cosa mi ha il fatto di non dipendere da qualcun altro l'ho interiorizzato quando insieme a robin good stiamo parlando di 15 forse 20 anni fa fu penalizzato da adsense adsense era i primi tempi che era arrivato in italia forse non c'era neanche negli stati uniti e io con lui vendevo link quindi una cosa che non si fa assolutamente però non si era capito bene che non si poteva fa era proprio all'inizio arrivava un americano dicevo ti do 300 dollari per mettere un link sul tuo sito ci sono ok e questa cosa ha fatto scattare una penalizzazione quindi di colpe molti guadagni non posso dire esattamente quanti però molti guadagni zero il giorno dopo il tutto ero in vacanza quindi sono tornato dalle vacanze e ho visto questa tutte queste conversazioni alle email cazzo che è successo abbiamo capito che è successo proviamo a fare qualcosa qui tutta la cronologia di quello che era successo e lì c'è scattata qualcosa abbiamo detto ma forse non è un modello di business sostenibile quello di dipende di essere parassitario dipendere da qualcun altro e e allora dico gli youtuber non sanno come monetizzare la loro attività perché dopo anni che tu guadagni tramite la pubblicità ti svegli e dici voglio guadagnare in maniera diretta cioè facendo qualcosa di valore per le persone che mi seguono dandoglielo e facendomi pagare per questo è assurdo che ci arrivi dopo tanti anni lo dico in maniera buonare cioè non è che lui che ha fatto un problema però è una cosa diffusa tutti gli youtuber c'è una nostra difficoltà e poi la volta una volta che l'ha lanciata ha avuto un risultato del quale lui stesso è rimasto deluso tant'è vero che il primo video della membership è stato cerchiamo di capire che cosa ho sbagliato e quindi non si fa il grano facendo la web star è interessante tra l'altro mi vengono in mente miliardi di cose riguardo a questo la prima è vabbè noi guardiamo intanto quello che fanno altri formatori o pseudo formatori tipo big luca che ha fatto questo video che enrico mi manda sempre i video di big luca lui è un fan di big luca che fa questo generano dipendenza i video di big luca io mi sto disintossicando a certo punto perché no io da una parte è un oditamo da una parte mi fa ridere perché è ovvio che esagera personaggio dall'altra parte è talmente questo a questo personaggio arrogante mi ha rotto uno smartphone perché lei l'ha tirato perché ero talmente dipendente dai video di big luca che un giorno volevo vedere un video di big luca mentre scaricavo la spesa ho andato a fare la spesa sabato avevo tutti questi bustoni e quindi per tenere lo smartphone mi è caduto il cellulare e mi sei rotto quello è il karma è quello è un messaggio divino che ti dice basta rivedere big luca basta big luca fa video solo da piscine o dal mare o dall'aeroporto quando viaggi no ma poi è di quelli che fa vedere che ostento amarrissimo cioè che dice beh io ho fatto i soldi che comunque è bello veramente figo come come no poi andava è molto ma poi molto molto moderno molto moderno andava andava nel ristorante del suo grattacielo dove abita mentre ancora stava facendo il suo video su youtube con gli airpods e mentre faceva video ordinava un filetto e una redbull una cosa taurina più taurina ma però ha detto una cosa sa già anche big luca anche persino e diceva ed era proprio il momento in cui mi è caduto il telefono diceva tu devi capire esattamente quanti soldi vuoi fare perché dopo una certo numero di soldi che hai fatto non ti fanno differenza farne di più non lo so hai fatto dieci milioni di euro lui ha detto io dopo i dieci cioè poi magari cento sì però tra i dieci e i venti non c'è differenza quello è inutile non è che l'ha detto big luca però insomma che big luca insomma ha letto forse qualche articolo giusto no però quello che diceva lui interessante che si condeva a quello che dicevi tu è quella roba lì che dice lui ha fatto questo video dicendo montemagno tu non ci sai fare non so se l'hai visto no e tu non capisci non sai monetizzare cioè se io avessi la tua fan base col cazzo che farei prodottini da dieci euro che falliscono dopo due anni perché nessuno li prende e lui dice perché non monetizzi perché ti vergogni a chiedere i soldi alla gente psicologicamente si connette forse a quello che abbiamo detto all'inizio del tema youtuber c'è lo youtuber c'è un po di imbarazzo come dire io lo sto facendo ma non lo faccio non è un vero lavoro c'è una sorta di pudore no e quindi quella roba lì montemagno lui che montemagno youtuber dove l'hanno definito non lo so comunque è un media una media star una web star fatica perché ma magari io mi sono detto visto i video di big luca ho detto ma tu che cazzo ne sai di cosa vuole fare nella vita montemagno hai mai provato ad essere tu una web star perché è un classico questo no di quelli che sono sconosciuti o poco conosciuti che guardano quelli sopra e dicono ma non capisci se io avessi il tuo potere sai le cose che farei ma tu ci sei mai stato in quella posizione sai cosa come si vive sai che tipo di relazioni hai e soprattutto ma non è detto che uno voglia nella vita monetizzare non è quello che vuole fare marco ma poi ti dico di più ma capisci la limitatezza di quest'uomo che dà per scontato che tutti vogliono essere come lui da soli in un grattacielo a farsi pipponi a dubai dicono questa cosa che secondo me è importante proprio dal punto di vista di business cioè non vuol dire che tu sei bravo a convertire mille persone e fare dei soldi con quelle per mille persone piuttosto che 10.000 persone forse sei bravo perché parli di un argomento ultra specifico e magari ne parli anche in una certa maniera ma se poi vuoi comunicare con un milione di persone devi parlare di argomenti diversi di più argomenti argomenti più di massa in maniera diversa perché se no non riceveresti questo un milione e poi non è detto che poi riesci a convertire con la spesa percentuale non è frega niente lo so che lo so che per certi personaggi tipo lui bardolla e sembra impensabile che una persona possa vivere felice anche se non pensa solo al denaro lo so che è difficile ci arriverete fra qualche vita però è così c'è montevagno va bene quello c'è non sembra di essere un'autorità ora lui banalmente ha un modello di business diverso ricordo una volta stavo io marco e roberto un altro amico e roberto che fa consulenza era tutto fomentato tanti anni fa e diceva marco no perché potresti vendere delle consulenze e lui diceva no io assolutamente consulenza non faccio assolutamente e diceva guarda io sto eravamo nella pausa pranzo del dello iab forum marco ha moderato per tanti anni non so se lo fa ancora il forum dell'internet advertising bureau ed è lo strumento anche col quale è arrivato a tante persone di spicco no perché l'evento che l'internet advertising bureau è l'organizzazione diciamo di chi lavora con la pubblicità digitale e quindi ci sono parecchi soldi che girano ne sono girati sempre di più loro dicono noi abbiamo questo budget per invitare gli speaker e lui intelligentemente dice allora non invitate speaker invitiamo uno serio chiamiamo quello che viene da spacex a raccontarci oppure invitiamo il prestigiatore che ho visto il regno unito che però ci può triggerare una termine un determinato pensiero e i soldi che lui faceva con una moderazione quindi con una commessa erano dieci volte in più di quello che si poteva fare con dieci grossi clienti di consulenza magari quindi la è un altro proprio un modello di business completamente diverso ci sono tutta una serie di argomenti che si concatenano per esempio a me a volte mi commentano i video bravo peccato che non sei famoso anche a noi qua sotto meritereste di meritereste e perché quando parli di una cosa in maniera molto approfondita molte persone non ti capiscono e quindi non ti seguono devi ne parla in un certo modo se ne parla in modo superficiale anche marco parla delle cose in una maniera lui è molto più specialista delle cose di cui parla rispetto a come ne parla le marre parla in una maniera alla death seat no è disimpegnata io vi dico due tre cosette poi fate che molti l'hanno criticato dai colleghi no nell'ambiente che frequentava prima del digital perché marco lavorare digital da tantissimi anni ha messo su un network di blog blogosfere in tempi non sospetti io quando l'ho conosciuto a milano sarà stato il 2001 no aspetta sì forse 2005 2006 aveva appena venduto il network quindi già stava e stavamo con salvatore arranzulla che aveva ancora 18 anni quindi questo per dire che se parli specialistico le persone non ti seguono ma ma me gli argomenti che tratto mi emozionano io voglio parlare di quelle cose in quella maniera lì perché mentre ne parlo ne imparo quello di cui parlo e la non ne posso parlare in maniera superficiale il mio modello di business è andare ultra specialistico sulle cose provarle farmi male sbagliare per poi aiutare altre persone a non fare altro c'è spazio per tutti c'è anche c'è un modello di verità di monetizzazione e se tu non fai quello che faccio io non hai capito un cazzo ma è solo che ti vergogni che non vuoi fare i soldi ragazzi c'è la vita c'è la vita è molto più molto perché molti di questi personaggi gira tutto intorno a quanti soldi riesce a fare certo e non c'è solo quello c'è la vita poi questo questo obiettivo ti porta magari poi a dire delle cose per fare più soldi puoi truffare la gente puoi fare pubblicità non corretta dire che diventerai milionario se fareste roba questa dicendo una ragazzata dovresti essere punito e messo in casa domanda non è quanti soldi vuoi fare noi money surfers abbiamo cambiato il tono voice negli anni no la maturità ha colpito anche noi nel senso che comunque all'inizio sia pur dicendo la verità siamo arrivati a questo paradosso perché noi mostravamo le statistiche delle nostre strategie di trading che erano potenti cioè effettivamente se applicavi la strategia e rischiavi 3 4 per cento per trade o anche cinque venivano fuori dei delle equiti come si dice in gergo che sembrano pure troppe sembravano falsi dovevamo censurarci noi dire un po di meno perché sennò è a un certo punto abbiamo dovuto levare tutto perché cosa succede due cose succedono primo non ti prende seriamente tutto un target cioè se tu vai a dire a qualcuno dici guarda sta roba qui fa il mille per cento in in con cinque anni vabbè questo è un percottaro cioè non gli do i soldi cioè non gli do 2000 euro per fare il corso questo è evidente che mi sta inculando il target quello che ha studiato quello che che ha letto almeno un giornale nella sua vita non so come dire un libro nella sua vita però è la minoranza questo target qua nel senso per noi l'abbiamo fatto per anche per etica personale e per non attrarre tutte quelle persone che invece comprano i corsi i cosiddetti opportunity seekers se gli prometti queste cose qui ma poi non hanno gli strumenti per applicarle non hanno la struttura interiore per applicarle e quindi le strade a quel punto sono due o ti sfanculano sul web dice no non è vero quello che dicono perché non vogliono ammettere se stessi che invece colpa loro che non li hanno attuati oppure ti rompono i coglioni sul supporto clienti e devi avere un supporto clienti che non finisce più e quindi sei come direi non hai capito il claim fondamentale di money surface che non è i soldi fanno la felicità ma la felicità fa i soldi esatto e noi abbiamo detto ma apprendiamo solo quelli che capiscono e ovviamente abbiamo visto che comunque le performance di vendita diminuiscono non c'è la dimensione cioè non sei più addormentato sei sveglio si nasce la vita non so come dire nascono le relazioni si fabbricano le cose perché è il motivo per cui cambiano la vita si evolve e nascono le relazioni con i tuoi corsisti che diventano a quel punto più elevati nascono delle connessioni infatti stiamo partendo con i progetti poi ne parleremo fuori onda perché qua non possiamo dire cose progetti che non è finché non sono ufficiali e quindi mi dico attenzione perché andare sul web anche tu potresti dire ora io comunque sono stato il primo podcaster della strategia digitale in italia venite da me e se qualsiasi cosa hai tu fai per dieci come fanno tanti coach financial coach fai per dieci fai per dieci per dieci per dieci li vendi corsi ve ne vendi per dieci però sei solo tu che fai per dieci tant'è vero che io li regalo cioè io perché tanto lo youtuber perché non guadagna o perché non chiede i soldi perché li vuole non li chiede perché li desidera e quindi ti vergogna chiederli non sei libero rispetto al denaro dice san paolo ho imparato a essere ricco ho imparato essere povero e quello è un po la il segreto quindi tu non non devi volere il denaro se tu vuoi il denaro il denaro ti renderà schiavo e certo nel momento in cui non lo vuoi io sono libero di dirti oh ma scusa vieni su patreon anche un dollaro e lo spiego sempre lo dico in ogni podcast non è importante il dollaro che tu mi dai su patreon perché io del dollaro che mi dai su patreon non ci faccio esattamente niente quel dollaro serve a te per tirarti su dal divano e cominciare a fare qualcosa vivere in maniera intenzionalmente anche l'ascolto del mio podcast dire questo podcast l'ho fatto anch'io e quella quel dollaro accende le persone c'è mattia miraglio che è un ragazzo che ha fatto praticamente il giro del mondo a piedi fino a fine in australia da dal piemonte a piedi e lui mi diceva io ascoltavo strategia digitale mentre attraversavo il deserto dell'australia poi ci siamo incontrati ad adelaide no mi ha chiamato sono qui a darwin ci vediamo quando arrivi domani no tra tre settimane io stavo lì con il carrellino con tutte le mosche intorno ma io non ci batavo perché ascoltavo strategia digitale l'ascoltavo in una maniera diversa perché perché ti sei hai fatto un'azione quindi il denaro serve a chi lo spende no a te che lo prendi bellissima questa beh questa è figa e va controcorrente al modello pubblicitario classico di youtube della tv dove la gente non si rende conto però lo è inconsciamente in realtà se ne rende conto che è il prodotto nel senso quando tu non paghi facebook non paghi la tv non paghi niente però te prendi te poppi la pubblicità e inconsciamente tu questo lo sai che tu stai pagando con un pezzo della vita con un pezzo della tua mente invece se tu sei libro dalle pubblicità e consapevolmente paghi dici no io sto contribuendo a creare qualcosa di cui avrò un beneficio ma ne sei estremamente questo è un trend è enorme si è vero è un trend è enorme è il futuro non dire il futuro è da sfigare il futuro è l'unico modo per sopravvivere perché il modello pubblicitario negli anni ha vissuto a cicli prima i giornali grandi soldi poi le radio grandi soldi poi la tv grandi soldi e poi si finisce adesso i giorni fino a vent'anni fa mario ne è consapevole i giornali erano pieni di soldi le riviste settimanali li sperperavano proprio non sapevano come spendere non chiedevano neanche i preventivi è molto semplice perché i soldi si muovono a tecnologie spunta la nuova tecnologia tutti i soldi si spostano in quella nuova tecnologia quella tecnologia non è più la nuova tecnologia perché ne arriva un'altra quindi adesso la nuova tecnologia e youtube ok tra un anno due anni tre anni quattro cinque anni non lo so quando ci sarà la nuova tecnologia e la pubblicità si sposterà da youtube e si sposterà da un'altra parte tutti quelli che vivranno nella di pubblicità come vivevano la tv e giornali adesso si lamenteranno esattamente come si lamentano adesso i giornali le tv che non hanno più i soldi che avevano una volta e questo è un grosso problema quello che ha capito tutto è zio jeff bezos perché ha comprato tutto il cucuzzaro allora se io tipo per questo twitch a me fa impazzire twitch perché ha capito il fatto che tu creatore di contenuti devi vivere grazie al supporto della tua community e quindi perché lo youtube va su twitch perché per ogni persona che preme quel cazzo di tastino abbonati il twitcharo piglia una porcentuale altissima no prende 2 euro e 50 con il twitcharo il twitcharo per ogni volta che tu fai abbonati tu paghi se hai amazon prime tu non paghi niente e lui prende è quella la cosa ma non durerà per sempre dai potrebbe anche durare per sempre perché perché dopo che tu provi il meccanismo dell'abbonarti e di sentire lo streamer che fa grazie giulio per esserti abbonato al nostro canale c'è una relazione allora vai su un altro canale diceva soltanto ho finito il mio twitch prime l'ho fatto bene faccio un altro lo fai e già si è compensato i soldi che amazon ha dovuto spendere e poi dimentichiamoci che prime l'abbiamo pagato comunque comunque allora io prima di iniziare fuori onda per i pochi secondi del no twitch non mi piace perché mi sta sulle barra gente che continua a cliccare entri su twitch però me lo stai già vendendo diventi ma dal tema della relazione è importante noi siamo un po individualisti diciamo ci piace arroccarci qua noi siamo elitisti però siamo i figli del the boy ti faccio una profezia se tu inizi a fare il twitch fai solo twitch e ma infatti boh proviamo che qui c'è vivere da web star no dai allora è perché vedi tutti che vuoi essere una web star giovanni però qui ho un corso ho un corso e guarda si chiama life design in questo corso te lo consiglio l'ha scritto davide francesco santa enrico verzotto alla famosa web star da comunque non è neanche firmato la dedica dopo no comunque la collega detto è figo mi piace perché la relazione veramente il punto di svolta e ecco però c'è un tema noi siamo partiti con un modello imprenditoriale diverso cioè noi siamo partiti già visto che siamo cresciuti tanto negli ultimi anni c'era facciamo l'aziendona forza vendita cioè andiamo car armato eccetera popolo opposto di quello che stai facendo tu che invece rimani boutique beh io fa non rimango io diciamo ero diventato grosso ho dovuto come semplificare come funziona il trigger è stato quando sono andato in australia avevo creato questa azienda è fai miliardi però l'azienda con i dipendenti le cose quanti erano allora c'erano al tempo tipo a 26 si occupava di cosa questa azienda e faceva era un'agenzia digital poi un specializzata in content marketing quindi non so facevamo content marketing per il gruppo gucci quindi in più lingue e poi ci avevamo la parte content che era un network di blog publishing quindi per quei famosi progetti editoriali che diceva prima dei link quindi blog e quindi venivano quelli facevano i post sponsorizzati poi ci avevamo consulenza e quando io me ne sono andato in australia è andato tutto a fanculo quando sei andato via dalla pubblicità c'avevamo anche no via quando sono andato io in australia perché tutti stavamo in italia ah ok sì sì ma non mi ricordavo più l'altra era advertising grafichissimo quindi facevamo gli advertising utilizzavamo il google dfp c'è una piattaforma un ad server che avevamo avevamo iniziato prima con i siti nostri del network e poi a un certo punto abbiamo detto andiamo su altri siti e gli diciamo dammi lo spazio e ci metto il mio codice di dfp quindi tutto iniziato micro cresciuto pur io c'avevo il mito dell'azienda che anni sono questi e 2000 dunque sia nel 2006 che era 17 stiamo qua quindi tutto questo era nel 2014 quando sono andati in australia è andato tutto a rotoli per tutta una serie di cose quindi chi dirigeva la l'agenzia ha cominciato a fare delle cazzate poi io ho detto io non voglio vivere con l'ansia di stare qui a nove ore e mezzo di diffuso orario di differenza di quello che stanno facendo gli altri ci ho avuto anche una una socia con il quale c'era la società di publishing abbiamo cioè si è rovinata un'amicizia per il business che è una cosa orribile e allora ho detto no io voglio fare solo quello che posso fare da solo da solo posso gestire in maniera autonoma magari ogni tanto mi servirà un aiuto no su alessandro mi aiuti a fare però sostanzialmente sono da solo non è che devo contare sugli altri e a me mi ha funzionato perché mi ha dato grandissima agilità perché per assurdo quando è un'azienda si è imbrigliato ogni cosa che fai la devi fare come un'azienda e diventa tutto più complicato voglio muoverla voglio invitare Enrico e Davide a casa mia allora dobbiamo fare famo la liberatoria famo de qua famo de là deve essere tutto fatto in un certo modo e invece con ho ascoltato ho ascoltato un podcast bellissimo non so se l'avete pure invitato vincenzo venuto no è venuto no non è venuto la cremeria collega di massimo temporelli che invece avete invitato certo collega nel senso collega podcast perché hanno fatto tutte e due due podcast per l'editore storie libere infatti io avevo invitato tutte e due a fare sia il podcasting l'avete visti là probabilmente vincenzo fa un podcast che si chiama il gorilla c'è la piccola ah certo e lui dice nella nelle società animali c'è una cosa una strategia che la strategia è il free rider cioè c'è il pinguino che il pinguino il delfino capo che del maschio alfa che ha il branco di delfine che in grado poi c'è uno che fa come cazzo gli va va e mette in cintra i delfine poi se ne va e quindi il delfino capo pensa che è stato lui a mettere in cintra la delfina e con questa cosa mette il suo dna all'interno del gruppo a tradimento e allora ha detto voglio essere un free rider cioè voglio fare le cose voglio fare le cose che mi danno soddisfazione che mi vanno a sentire bene io quando è che sono felice quando vedo che gli altri sono felici questa è una mia deformazione quindi vedo che tu sei felice mi sento realizzato poi quanto hai fatturato sti cavoli cioè c'ho quello che mi serve per vivere sì e quando è stato così anche ha avuto un impatto economico perché poi a un certo punto non per tutte le professioni sono importanti soldi che guadagni no cioè c'è il dipendente c'è il libero professionista c'è l'imprenditore per l'investitore il rapporto tra lavoro e guadagno si rompe quindi non lavori più per i soldi che che puoi portare a casa dall'azione che fai ma devi devi quindi trovare un altro orizzonte di riferimento perché ho visto persone che piene di soldi ma che vagano come se fossero gli scappati di casa perché non hanno un orizzonte non hanno un contesto verso il quale indirizzare il proprio fine e qui ritorniamo alla vocazione sì guarda è così cioè sto vedendo the crown il serial sulla casata dei windsor e c'è questo tema il tema di quella serie per me è quello alla fine muore principe filippo sì alla fine guarda mi sono innamorato cazzo abbiamo fatto una no ma guarda pensa che mentre lo vedevo dicevo secondo me muore esattamente mentre stiamo vedendo il the crown che non l'ho mai visto è vecchio cioè c'è qualche anno però ho iniziato a vederlo adesso è bellissimo però secondo me il non so forse per deformazione professionale per me veramente quel serial lì parla dell'angoscia di sentirsi inutili cioè di non avere un pupo come dicono gli americani e ed è tutto ruota è tutto intorno a quello perché la figura della principessa elisabetta poi è più complesso perché la principessa elisabetta poi c'è un viaggio interiore dell'eroe l'eroina del 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 serial dove c'è proprio la ricerca del senso cioè del senso della vita che lo vedi nella figura della regina come lo vedevano i greci per i miti come lo vediamo noi per l'abbiamo sempre visto noi per i grossi attori di hollywood insomma ci sono dei punti di riferimento dove ci sono delle storie archetipiche che diventano archetipiche ma la viviamo tutti quanti noi questa cosa in scala più piccola loro la vivono in maniera molto più drammatica noi invidiamo no quanti ci sono tanti passaggi in cui dicono ai sudditi invidiano la regina e la regina invece sta tutto il tempo a dire io non volevo farla quella roba mi sono trovata però trovandomi lì ho dovuto in realtà trovare qualcosa di più di quello che pensavo che fossi c'è questo momento bellissimo dove la regina spronata anche dalla come si chiamava la moglie di kennedy jaclyn kennedy fa una cosa che va al di fuori della sua zona di comfort cioè praticamente va in ghana dove c'è questo presidente che come dire ondeggia fra i poteri degli stati uniti dell'unione sovietica della e dell'unione kingdom e lei fa un'operazione di disruptive cioè praticamente prende l'aereo dice no bisogna andare là perché l'inghilterra oramai è morta ammuffita io vado la e faccio una faccio una cosa matta andiamo la vediamo cosa succede che è di fuori totalmente dal carattere della regina e va là e durante una festa mi abbraccia il presidente della del ghana e ballano grazie a quel ballo lì che è stato ripreso da tutte le televisioni del mondo la regina torna a dominare sul piano geopolitico internazionale ma secondo me ancora più forte il sottotesto di questo di questa storia che la regina scopre una parte di sé che non sapeva di avere che era nascosta dentro di lei e quella cosa lì è importante c'è la uscire dalla zona di comfort fare anche delle cose come hai detto tu nome più sbrigliate senza procedure o appunto avere degli scontri a volte degli scontri anche con persone che magari erano persone che pensavi potessero essere totalmente risonanti ma erano risonanti magari con una parte di te che non c'è più no ma anche è l'esperienza cioè quello che io oggi faccio per dire io finanzio start up per la formula che utilizzo per finanziarli e il tipo di start up perché scelgo di finanziare e la percentuale dell'equity che prendo sono frutto di quello che ho imparato in quell'esperienza a vedi perché in quell'esperienza gli errori che ho fatto sono stati errori no sono errori perché hanno portato sofferenza è tutto qua comunque è tutto all'idea nel libro life design l'ho ancora letto ma sono come trovare e monetizzare la propria vocazione professionale dove si dice che il fallimento è la più grande cioè una di queste che che lavoro fa business angel finanza start up sembra una cosa io semplicemente vedo di una persona di ammazza questa è una persona di valore esattamente come ho fatto con quella con la mia social questa è una persona di valore può fare qualcosa ok allora ti aiuto utilizzare gli strumenti del digital in maniera consapevole per far crescere la tua start up ok lo facciamo crescere però allora qual è stato l'errore secondo me definitivo è stato l'avidità ho voluto prendere una quantità di quell'equity che a me rappresentava la sicurezza quindi mi diceva così puoi avere tu la governance ma non sempre avere la governance è la cosa migliore perché ha deresponsabilizzato ha fatto soffrire a deresponsabilizzato l'altra persona che però poi questa sofferenza ti ritorna indietro da qualche parte quindi oggi per dire so che non vado oltre il 30 per cento perché la start up deve essere la tua io sono un investitore sono tuo zio che quando hai bisogno di chiedere un consiglio vieni dallo zio e ti aiuto però poi la bicicletta la devi portare tu non è che poi ti devo venire dietro quindi è tutto tutto alla fine nella scrittura c'è scritto tutto concorre al bene di coloro che amano dio non è una questione morale cioè una questione di accordarsi a un gioco superiore a un a un gioco più grande di noi perché se fosse più piccolo di noi se noi lo potessimo capire il gioco non varrebbe la pena di giocarlo invece il gioco è più grande noi quindi è anche tu che sei artista capisci bene che vedere no delle cose degli indizi non l'ho capita bene ma vado in questa direzione vediamo che succede sì perché abbiamo la capacità di essere allo stesso tempo attori del gioco ma abbiamo anche una parte di noi che riesce a vedere questo gioco un po dall'alto capitolo 4 capitolo 4 il life design spirituale hai parlato di gioco vai l'attività creativa di brahman non è intrapresa in ragione di una necessità da parte sua ma solo e semplicemente per gioco nel senso abituale del termine cioè brahman è dio nel sto leggendo il life design nel libro di davide enrico ci sponsorizza questa puntata esatto esatto brahmasutra cioè brahman è appunto la divinità sotto non è che il gioco cominci con la creazione no perché è esistito da tutta l'eternità la creazione è quello stesso gioco nella sua esteriorizzazione jacob bom cioè il mistico tedesco che responsabile del mio tatuaggio della scella della scella che è partita ma il gioco il gioco è tutto cazzo di life design perisce di life design perisce che c'hai life hackers alla cui ho portato il mio diario ve lo regalo grazie questo è figo il tuo diario sì life hackers giorno il mio questo è il mio diario personale è proprio un diario vero è un diario un diario vero vera la battuta allora io tenevo un diario perché detto chi di life design perisce ferisce perisce perché una sezione di questo life design c'è scritto gioco e nella prossima edizione metterò metterò anche un ringraziamento a voi due perché molte delle degli stimoli sono venuti anche dal dal vostro approccio grazie allora questo era un diario io tenevo un diario personale a un certo punto detto senti ma sto diario me lo chiedevano perché c'è sempre quel libretto è il mio diario ma che c'è scrivi allo spiego a un certo punto che tu senti io sono rotto che cazzo io ho detto ad alessandro su eravamo sul treno da milano a roma io ho detto senti fa una cosa questo è il mio diario vedi come è scritto me lo fai in pdf l'ha fatto in pdf l'ho messo su amazon e l'amazon l'ha trasformato in un libro però è un libro vuoto perché devi scrivere tu il libro sembra quello di salvini come che era mille ragioni per amare salvini e c'è un libro vuoto non lo sapevate è stato un best seller quello geniale scusa è molto interessante perché effettivamente è completamente vuoto e dice ora troverai delle cose per esempio dice l'idea del libro vuoto per questo è anche bianco perché devi scrivere tu è una tela bianca sulla quale puoi fare puoi scrivere il life design non si fa una volta per tutte si fa tutti i giorni confermatemi se no no di brutto purtroppo per fortuna sì io voglio una vita strepitosa voglio fa bello e oggi che fai oggi faccio il mio lavoro di merda allora c'è qualcosa che non fa no quindi devi cominciare a prendere tutta la tavolozza e ogni giorno a dipingere nel tuo picco poi è una testa di un mosaico ma alla fine poi c'è il mosaico e allora ogni giorno ti dico senti di che cosa sei grato vediamo allora che cosa sei grato vai anzi oggi è aspetta inizia così la pagina oggi è oggi è gratitudine partiamo da oggi è fondamentale a oggi è la data la data certo anche solo fermarti a scrivere la data ti posiziona nello spazio nel tempo sembra una cazzata no 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 sai che io invidio tantissimo quelli che si ricordano non so oggi è la festa del papà la festa della mamma che sono nel presente non so come dire oppure si ricordano come lui no cazzo oggi è che giorno è oggi non so il 20 aprile che giorno è oggi 15 aprile ti ricordi ti ricordi il 15 aprile del 2005 che siamo andati a scia a fare il ciaspole insieme no io non mi ricordo io prendo la penna lo scrivo e quel giorno mi sono appropriato di quel tempo ho cominciato a vivere perché ho acceso la lampadina oggi è e scrivo mercoledì gratitudine per cosa sei grato oggi io lo faccio questo basta deciso gratitudine il fatto di io a a volte arrivo a credo oddio c'è una mia domenica gratitudine per cosa sei grato oggi oddio quando ho svegliato la mia figlia più piccola mi ha detto papà ti voglio benissimo e mi abbraccia è una cosa piccola però appena la per guarda già ora mi sono emozionato è cambiato il mio battito cardiaco e ho gli occhi più lucidi perché mi mi dà una cosa bella la gratitudine e allora non perché devo essere grato no per forza ma a volte ci sono delle cose anche in una vita di merda ci sono delle cose in cui essere c'era c'era rayner maria rilke in quel libro che mi hai fatto leggere tu lettera un giovane poeta che dice cioè non è che che se non sei un bravo poeta non è che puoi imputare al fatto che la tua vita sia noiosa scusate ce la posso fare cioè non è che puoi dire trovare la scusa per dire non sono un bravo poeta perché la mia vita è noiosa no è che non sai trovare il tesoro nella tua vita attuale no beh c'era la palombella rossa c'era la palombella rossa in cui lui diceva come mi annoio come mi annoio è la figlia piccola a se argento gli diceva ti annoi perché sei noioso esatto c'è lì che sta tutto lì è tutto lì nella vita di chiunque anche nella merda più totale il vero poeta che poeta vuol dire condurre una vita poetica non è che bisogna per forza pubblicare poesie sa trovare il bello ovunque la merda nascono i fiori diceva l'abbiamo detto ora continuiamo e anche il brutto anche il brutto è cattivo di che hai paura oggi ma noi in generale oggi qual è il pensiero di paura che hai dentro il tuo cuore in questo momento mentre stai parlando con me di che hai paura hai paura del riunione di condominio che dovrei fare già l'abbiamo citata due volte riunione di condominio io sai di cosa ho paura che finisca di fare le consegne quando finiamo la puntata quello giapponese che ci porta il cibo la tua vera paura non la puoi dire perché non la diresti cioè se è una paura vera non hai il coraggio di dirmela a me infatti non me la devi dire la scrivi dove qua dentro accettazione perché se la tua paura di non ci voglio pensare no non ci voglio pensare quella ritorna più forte qua c'è un bellissimo libro si chiama la trappola della fiscina tutta sta roba non è roba mia mica so ma io ho rubato a voi ho rubato a rubato a tutti noi l'abbiamo scritto anche in questo libri detto noi siamo dei dj mixiamo cioè non è che io faccio il cantautore noi mixiamo non siamo abbastanza intelligenti ma ho preso la trappola della fiscina dice che è un'illusione che devi essere felice quindi sai che la mia psicosintesista me l'ha consigliato la trappola della fiscina l'ho comprato ti hai visto che c'è la prima metà poi dopo un po ti rompi i coglioni però la prima metà è molto carina perché ti dice questa chi l'ha detto la tua vita deve essere felice ma dove sta scritto c'è spazio anche per il male quindi scrivi fai accomodare il tuo io scrivo il mio demone mi dice che sono un ciarlatano quella cosa che hai più paura la scrivi la fai accomodare nella tua vita perché c'è spazio anche per lei senza mandarla via non ti definisce è un pensiero io l'ho fatto per esempio questo lavoro in psicosintesi dove una delle migliori sub personalità è una sub personalità un po sadica che sembra lontanissimo da quello invece ogni tanto quando la gente magari ha una piccola defaianza ci godo un pochettino vedi anche a te capito sono un invidioso sono un sadico le azioni chiave che vuoi combinare oggi cioè la quella cosa che devi portare a casa oggi una due tre no no due liste chilometrica che ti frustra a fine giornata quel quindi questo lo scrivi all'inizio perché dall'inizio della giornata si all'inizio della giornata quindi la gratitudine può essere del giorno prima del giorno si ma se cominci a dilatare il tempo è bellissimo perché troverai troverai le cose sono grato per il fatto che ho la lana merinos dentro le mie scarpe ho una soletta che in australia ti danno le pezze di lana merinos e nelle scarpe che ho che sono australiane sono abbastanza larghe da ficcarcela dentro in questo momento sto sentendo il massaggio della lana sotto i miei piedi e sai che siamo tutti in questa situazione perché le mie scarpe sono di lana merinos totale oppure queste sono quelle italiane della jule lo conosco il ragazzo che l'ha inventata queste qua di biella ci siamo conosciuti ci siamo parlati perché gaudiano è ovunque è il deus ex macchina del digitale italiano ti dico di più l'ho fotografato dentro la macchina di ritorno al futuro mi ha detto stefano stefano si chiama aglietta no mi ha detto giulio mi fai una foto dentro la macchina di ritorno al futuro e gli ho fatto una foto dentro la macchina di ritorno al futuro e dove stava sta macchina di ritorno al futuro stava nel basement di del milano congressi ma era lì una riproduzione magari era per lei per una mostra poi l'amore io voglio amicizia io credo nell'amicizia cosa hai fatto oggi che mi dimostra che tu credi nell'amicizia quando è l'ultima volta che hai chiamato il tuo migliore amico quando hai chiamato tua madre qual è il gesto di compassione amore che hai fatto oggi per qualcuno no anche essere gentile con l'autista che ti ha portato le scrivi qua voglio fare questo oppure ho fatto questo poi c'è il gioco ti è beccate questa il gioco il gioco deve essere un'azione ritorniamo al tema della design in your life un'azione questa l'ho presa da da evans un'azione non focalizzata non finalizzata quindi mi vede una serie faccio un cazzo gioco il corpo cosa fai per stare bene nel corpo cosa stai mangiando cosa stai facendo di attività fisica la mente cosa imparato cosa vuoi imparare oggi una cosa lo spirito la preghiera la meditazione e poi questa zona ecco questo diario qua l'ho pubblicato così come come ve lo dico l'ho pubblicato e l'ho messo anche gratis sul web in modo che le persone che vedono devo dare io il libro tu lo stampi quindi se vuoi te lo stampi se vuoi la carta te la compri da amazon si è creato una e poi siccome sono cose intime ho scritto dietro questo è il mio diario personale ho dato la possibilità di registrarlo in modo che io non ci scrivi il mio nome perché se tu poi trovi e dici no gratitudine sono grato perché ho ucciso enrico e è registrato così se lo perdi qualcuno scrive al all'indirizzo e io lo prendo e lo ridò alla persona che l'ha perso si è creato una community intorno a questo diario di persone che hanno cominciato a farlo tutti i giorni e ne hanno comprato uno e poi ne hanno comprato un altro e poi un altro ancora e poi un altro ancora e hanno cominciato a modificarlo a un certo punto ho detto ragazzi come volete tu che vuoi fare barbara ha detto voglio inserire una frase con mi sento creando un atlante di come di come mi sento l'atlante della ruota delle emozioni ok mettiamolo quindi è una roba viva se tu questo lo compri domani è diverso perché una persona l'ha modificato secondo quello che fa realmente il gioco è fondamentale anche il problema nostro secondo me è che noi ci giochiamo talmente ci divertiamo talmente tanto a fare il nostro lavoro che poi non troviamo il tempo per giocare c'è scritto anche quello nel libro non sto scherzando c'è un capitolo proprio perché questa puntata abbiamo giunto è offerta da live design quando l'uomo nobilita il lavoro è il secondo sottotitolo ne sono sicuro per questo ho detto diventerà il libro di testo della community della e allora sì abbiamo giunto uno step perché noi invece al contrario di billy evans e davy evans e praticamente sono loro dicono parti dove vuoi che hanno ragione abbiamo messo anche noi però noi siamo un po più metodici abbiamo messo uno step alla fine che non aveva mai messo nessuno l'abbiamo chiamato self check cioè l'auto controllo ok fatto live design ma ogni tanto stai attento perché questo qua è un fuoco cioè quando tu tocchi la vocazione come se ti metti sei la benzina plus cioè quella che poi la macchina va più veloce cazzo dormi di meno perché non ti stanchi di meno perché quando è che la gente stanca quando deve stancarsi perché lavorare ed è stanca di fare la vita che non gli piace quindi si stanca due volte quindi e poi la notte magari dorme anche male perché appunto è frustrata e invece no la vocazione ti fa dormire di meno e perché hai più energia ma quando ottieni quell'energia lì riesci poi a veicolarla sempre in maniera diversa o è lei che poi ti possiede certo cioè se devi riuscire secondo me alla fine di ogni passaggio live design quando finalmente ai prototipato un'idea di vita ha iniziato a condurla ai primi risultati e mettete in bolla cioè dire ma quindi quando vado in vacanza sto solo seduto su una sdrai hotel 5 stelle perché non riesco più il mio cervello è leso non capisco più niente posso solo farmi massaggiare e guardare il vuoto o sono ancora in grado di fare un viaggio senza meta perché una parte di me ancora viva mi ha bruciato completamente o chiamo i miei amici vado ancora a perdere tempo a fare discorsi che non sono per forza produttivi a parlare con un anziano faccio ancora le cose normali o i miei hobby per esempio parlo perché per autobiografia perché io a fuori di fare l'hab design a voi a vocazione però a un certo punto ti rendi conto cazzo che ad esempio a me piaceva andare a pescare cioè ti rendi conto che non per 15 anni e non sono andato più a pescare ed è una roba che mi piace di bollo mi ricordo che ancora prima di money surface ricordi quando abitavamo insieme io prendevo da milano e andavo col treno nelle valli pescavo le trote con spinning tornavo indietro un uomo diverso era metà metà medita si un figlio di 7 anni allora la vita la biologia ha trovato già il modo di farci fare life design perché i figli ti fanno fare questo ti obbligano poi tu puoi alienarti come cazzo ti pare nel senso che poi li metti in mano a qualcun altro e te però servono all'adulto per riscoprire il gioco per rivivere la vita con gli occhi di una persona la sta vivendo per la prima volta e giocare non so con le mie figlie a volte io ce n'ho tre e uno in arrivo facciamo delle costruzioni capla un'altra femmina con i quattro maschio ok facciamo delle costruzioni delle costruzioni capla mostruose cosa sono le costruzioni capla i mattoncini tipo tipo l'ego non sono non li conosco faccio fatto una capa io non li conosco neanch'io tutto ma il capla no magari gael è un figlio con la cappa è tipo un lego ogni tanto c'è no il capla no al caprare è una se lo scoprite vi fa scoppiare il cervello perché è una storia di un life designer c'era questo robert capla che voleva un castello e a un certo punto lo costruisce cioè prende un a bello si prende un un castello diloccato e comincia a ricostruire da solo il suo castello è ancora vivo penso vedi un po se robert capla è vivo se non è vivo è morto da pochissimo e comincia da solo a ricostruire il suo castello ma capla 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 anche lui si chiama si chiama come le costruzioni e costruendolo scopre legno di pino quindi c'erano tutti stipini nel potere del castello quindi prende il legno di pino e comincia a ricostruire questo castello questi cosette di legno di pino dice figo e si inventa un sistema di mattoncini che sono tutti uguali sono barrette di legno di pino rettificate che hanno una serie di rapporti tra loro per cui può costruire delle cose pazzesche e sono un gioco fantastico perché le regole le fai tu cioè costruisci le cose ma devi trovare tu gli equilibri a non è come il leggo che non è come il leggo che comunque devi seguire le istruzioni compri quel se guarda il fustino che la confezione tu c'hai un fustino con un milione dei pezzi dentro sono proprio dei mattoni ci sono dei libri a volte non ci sono le istruzioni dentro però puoi comprare a parte dei libri che ti fanno vedere quelle cose che puoi fare ma te le inventi tu cioè i bambini l'altro giorno abbiamo fatto il colosseo con le figlie poi è andato a prendere tutti gli animali e ce li ha messi dentro quindi più aumentano i pezzi più aumenta la complessità e devi creare degli equilibri devi bilanciare col peso non ci sono istruzioni quello che vedi sulla copertina è l'unica cosa che vedi vedi li puoi mettere in verticale in orizzontale in diagonale e come si incastrano non si incastrano ecco è tutto un trucco di qui ma veramente sì c'è proprio tipo come sembra quasi il genga sembra sembra quasi il genga sembra quasi genia comunque l'inventore si chiama tom van der bruggen bravo infatti non lo trovavo bravo tom van der bruggen e guardalo su wikipedia andatevelo a smanettare perché è un personaggio assurdo perché poi lui è diventato molto di successo con questa cosa però ha ignorato completamente la parte diciamo dell'azienda del lui ha creato questo sistema questo mattoncino che ha delle proporzioni particolari che gli consentono di essere mi pare che uno in piedi è l'esatta dimensione di sette uno sopra l'altro traurico esatto esatto ma senti questa cosa del gioco con le tue figlie eccetera c'è sempre stata o attualmente che hai fatto anche tu un tuo redesign sempre sempre sei riuscito sempre a ricavarti tanto spazio per stare con loro anche quando avevi l'agenzia e sì sì perché la quando è nata la prima che ha ora dieci anni mia moglie è tornata al lavoro e io ho cominciato diciamo mi sono messo in part time per stare con lei e mi sono accorto che la mia produttività è aumentata in maniera drastica allora ha detto come cazzo è io lavoro di meno e produco di più com'è perché mi rigeneravo mentre stavo con lei quindi avevo poco tempo per la famosa legge di parkinson per cui il tempo necessario per fare una cosa è direttamente proporzionale al tempo che hai a disposizione abbiamo inventato una fila strocca per renderla memorabile più tempo ti darà e più tempo perderai infatti faccio sempre le cose all'ultimo momento oggi mentre venivo qua sono arrivato cinque minuti prima in stazione ho detto devo andare a prendere un cappuccino perché voglio dare sempre poco tempo per fare le cose perché poi il tempo alla fine si può dilatare e quindi ho detto io sta cosa non me la perdo più oltretutto il mio pot io ho iniziato a fare podcasting grazie a lei perché stavo con lei sul passeggino intanto volevo leggere le notizie dallo smartphone c'erano i feed rss e dicevo ma non c'è un podcast che io così posso portare il passeggino con due mani perché mi faceva male il polso ho cercato non c'è un podcast e non c'era un podcast è bello lo faccio io così almeno gli altri papà che hanno lo stesso problema possono ascoltare e facevo la rassegna stampa delle notizie di giudizio il giornalista ti rendi conto beh pensa che adesso vanno di moda quelli di willy tagliano con la mia ceran che fa come una roba del genere ogni giorno in cinque minuti ti fa la rassegna stampa delle notizie più importanti ma quindi com'è la tua giornata tipo adesso allora tutta ti svegli all'alba a guardare l'alba quello l'abbiamo capito mi sveglio alle 6 che non tutte non sempre durante l'anno le 6 è prima dell'alba e quindi mi sveglio alle 6 vado a fare nordic quindi mi sveglio già dalla sera prima ho preparato tu abiti a roma cento abito a roma città giardino città giardino agniene che dice ce l'ha detto l'altra volta che un posto magnifico è una roba era un posto di artisti è un utopia urbanistica degli anni venti tipo il villaggio qua di milano dovete venire a trovarmi perché vi vi porterò in giro per città giardino è una cosa ti innamori perché una specie di paese all'interno della città negli anni venti come la le villi jardin francesi le garden city inglesi dicevano creiamo una zona vicina alla città ormai è super dentro no vicino alla città lungo la via nomentana quindi c'era questo ponte nomentano sul quale si erano incontrati il papa o carlo magno nel medioevo subito fuori no sulla niene e la regola era questa può creare villini di massimo due piani circondati da un giardino quindi erano tutti villini si sono trasferiti lì a vivere le persone che lavoravano a roma però avevano voglia di una dimensione di vita diversa dei life designer io li chiamo dei life hackers no scusa ma forse tu allora conosci un certo alessandro che ha costruito delle case lui dentro la sua proprietà c'è una foresta di bambù lì via ci sono stato in airbnb è la parallela di a montesacro proprio molto lo ritrovo te lo dico e devi andare in piazzala adriatico e la vera non mi ricordo la parallela di via giannutri cerca via giannutri la parallela ma già ne era che voglia no non mi citate giannutri vado nel vado nel mio storico che c'è vado nel mio storico di airbnb è l'unica foresta di bambù che c'è a montesacro e come fate a trovare casa lì che culo sarà difficile trovarla il mio bisnonno era tra questi life hackers che ha detto vabbè andiamo lì la mia bisnonna aveva era un artista dipingeva e quindi sono andati in questo via levanna via levanna bravissimo e alla via levanna non è quella che ti dicevo io via levanna è vicino al centro sociale brancaleone un pochino più giù proprio attaccato infatti diciamo la musica la sera all'alto volume e allora è l'hai vista cioè che che stiamo a parlare hai visto città giardino è un'utopia sì no vabbè poi in realtà ero sempre rinchiuso in questa però l'hanno rovinata negli anni 70 ho fatto la videochiamata no che avevo il bambù dietro ricordate ma dove stai a bali roma no città giardino che vai a fare a bali allora praticamente cosa è successo il mio bisnonno è andato sono andati hanno costruito questo vellino con la cooperativa e la mia bisnonna ha dipinto tutti i freggi a mano poi hanno negli anni 70 hanno sbloccato il vincolo urbanistico perché c'è stata tutta la speculazione hanno detto ok chi vuole può vendere il vellino e farci un edificio e infatti io oggi vivo dentro un condominio di quattro piani cioè venderlo nel senso abbatterlo e abbattere ok e quindi è stato un po macchia di neopardo perché tu dici no io non abbatterò mai il mio vellino poi quello vicino ti abbatteva quella è certo e ora c'è ancora questa situazione particolare in cui c'è magari un palazzo di quattro piani accanto un villino bellissimo ed è però una zona che avendo una sua identità anche nel tempo ha conservato questa identità antropologica per cui le persone che magari da piccoli vivevano lì poi si ritrasferiscono lì ci sono tantissimi artisti l'estate quando stai con le finestre aperte senti tutti che suonano la notte che sono il pianoforte la tromba è veramente c'è un'atmosfera bellissima e c'è la possibilità di vivere una dimensione più rilassata vicinissimo c'è la niene quindi tu stavi lungo la niene e c'è un parco della niene dove vado a fare nordic walking la mattina quindi mi sveglio vado a fare nordic walking nordic walking è quello con le bacchette con le bacchette che sembra che tutti vanno adesso compromizzati che hanno dimenticato l'isci da qualche parte che mi prendono per il curio tantissimo perché io lo faccio anche d'estate al mare quindi faccio il nordic walking fa molto ma una volta florida esatto pensionato in florida sai quel problema del nordic walking è che se lo fai senza bacchette sembri un pazzo scatenato ti ricordi l'altro giorno che abbiamo visto sta donna che camminava? no quella era matta io quando non potevo più correre ho iniziato a camminare però mi rompevo le palle quindi ho detto come posso cioè mi sono ritrovato dopo dieci minuti stavo con lo smartphone in mano ma spiegami un attimo quindi devi camminare un passo lungo un po' più lungo cammini non è tanta lunghezza del passo è la sincronizzazione con il movimento e poi non ne fai uno solo cioè ne puoi fare vari cioè poi come quando vai in sci no poi utilizzare le braccia insieme in più quando vado molte volte è buio quindi ci sono potrebbero essere cani randaggi quindi mi dà la sicurezza di avere comunque no queste cose guarda però via Levanna ti ricordi c'è c'è l'alberone come in India in quel parco Lamman ha attaccato i cani no io via Levanna mi ricordo solo purtroppo mi ricordo solo il cancello del trattato lì c'era un parco ti ricordi che c'era un parco vicino via Levanna ma tu sei andato durante la pandemia io sono andato a quest'estate non poteva uscire perché era in quarantena no 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 sono andato ad agosto lì era no quella era un'altra casa ancora comunque tu c'hai i cani randaggi sotto a casa di Enrico ci stanno i cinghiali infatti quindi non è che cambia tanto a Como ma i cinghiali magari hanno più paura dell'uomo più che altro io il cinghiale me lo so più che altro il cinghiale me lo so magnato il cane infatti il cane ti attacca infatti ti rimane quindi il cane ti ha attaccato quindi mi hanno attaccato i cani quindi con le pietre raccogliere le pietre da terra cioè immagina di notte cominciamo ad esserci l'aurora cominci a dire cazzo sta non li vedi neanche io quando vado che è buio durante l'inverno c'ho la lucetta sì cioè sta uscendo un profilo da male no no ma queste sono le cose giuste pensa io che esco fuori fino adesso era solo un'introduzione Rambo quasi Rambo esco c'ho il passamontagna d'inverno c'è il passamontagna e mi escono fuori solo gli occhi infatti ora sono contento che ci sono le mascherine perché non mi guardano più male perché posso andare coperto senza che le persone ma è coperto perché fai freddo d'inverno ma è coperto perché fa freddo ti gira la faccia a quell'ora di mezz'ora sì a Roma freddo dai vabbè poi è arrivato dalla strada è abituato ad altri climi esatto quindi va bene poi torno alle 6.43 sono sotto casa risalgo sua casa doccia preparo la colazione per le figlie che intanto si sono svegliate ok si sono svegliate accannonate vengono a colazione e le accompagno a scuola la scuola sta dentro un edificio razionalista fantastico che era mi pare la casa del fascio di città giardino che poi si è trasformata in una scuola Montessori anche mio figlio un edificio spettacolare e allora dopo che lo accompagnate vado prendo un caffè molte volte passeggio insomma c'ho un attimo di chiamo un amico faccio e poi faccio prego e medito quindi faccio le lodi mattutine al bar a casa vado al bar poi torno a casa e faccio ah quindi lavori da casa tu? lavoro al piano di sopra e come ho a casa c'è un studio? hai sempre lavorato a casa? da quant'è che lavori a casa? non ho mai lavorato in un ufficio ho lavorato in un business center quando stavo in Australia e quindi sei abituato nel senso non ti crea scompensi lavorare nello stesso luogo dove vivi anzi ho dovuto imparare perché all'inizio non è facile devi crearti tutta una serie di regole tra cui non lavorare mai nello stesso luogo dove fai altre attività cambiarti sempre io infatti prima mi svegliavo il fatto di uscire prepararti vestirti e poi di tornare a casa a lavorare è un piccolo segreto che ti aiuta a vivere senza abbrutirti ma allo stesso tempo è un tempo di stacco che ti serve per la mente non puoi passare dal lavoro alla vita dalla vita al lavoro l'ho letto perché adesso ovviamente da un anno e mezzo che la gente infatti io scusa pure io sono un po' statico lo sai cioè io pure ho goduto nel vedere tutti quelli che prima ti prendevano per il culo perché tu lavori lavori da casa che lavori tutti smart working chiamatelo smart e adesso c'è un altro sadismo che mi viene molto bene che dico perché poi quando ho iniziato a lavorare da casa ho detto e noi dicevamo aspetta aspetta è molesto mi sento abbattito voglio tornare in ufficio adesso vuoi tornare in ufficio quando dicevo io coglione perché noi facciamo smart working dal 2004 esatto avete vissuto tutte le prese per il culo di tutti quelli che non capivano smart working ti vedono da una parte come un privilegiato beato te io invece devo sada non fai un cazzo il mio mantra era sada tu non fai un cazzo invece è un doppio lavoro perché devi lavorare e essere il tuo capo nel gestire il momento del lavoro e del non lavoro comunque questa cosa di suddividere gli spazi lo spiegavano anche nel kamasutra che non è solo quello del sesso però dicevano proprio queste cose qua no cioè il posto di lavorare deve essere persino dicevano c'è scritto no dove dormi è il letto diverso da dove trombi cosa che faceva anche la regina Elisabetta ti siete arrivati scusa ancora che principessa no non mi spoilerare la regina si vede che tromba la regina no è che dormono in due stanze sto aspettando da due serie faccia vedere dormono in due stanze separate sì sì è un classico ma non sempre a volte fino a quando poi si sono un po' pacificati una sessualità intenzionale quello non è che lo schioramento sei la prima cosa che trovo potrebbe essere no ma infatti guarda io sono d'accordo su tutte queste cose cioè ad esempio questo chi se ne fote però secondo me portarsi un libro e leggerlo a letto dipende dal libro e comunque in generale perché poi associ neurologicamente questo il fatto della lettura all'addormentarsi quindi per me il letto è un momento dove si va solo a dormire poi è tendenzialmente altro però anzi anche l'altro mi piace di più altrove cioè nel senso in cucina esatto quindi ragazzi quando andate a casa e Davide attenzione non mi appoggiate diciamo che se sei una tua amica ti ci mettiti pure sul letto è il posto più tranquillo esatto esatto energeticamente puro sai che non succederà niente lì non si fa niente comunque no smart working quindi da sempre in sostanza smart working da sempre e il primo la prima persona con la quale ho lavorato è stato Robin Hood appunto e quando parlamo per la prima volta mi disse quali sono le cose cosa vuoi fare ancora prima io avevo detto io voglio lavorare da casa cioè da piccolo da piccolo io già ero deciso mi diceva mi riporta mia madre che da piccolo dice che vuoi fare voglio fare il mammo vedi 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 e quindi c'era questa dimensione domestica ma ti vedo ce l'hai non so risuona questa sei materno come postura non c'è non è un complimento è una cosa è un dato di fatto assolutamente io sono orgoglioso di esserlo della tua parte cin cin salute porta sfiga con l'acqua e quindi quando Robin Hood mi ha detto oh qua questo lavoro lo puoi fare da qualsiasi parte figata tant'è vero che il primo giorno di lavoro sono rimasto a casa mi chiamano dove cazzo stai? non si poteva fai da qualsiasi parte ma no all'inizio no però si sempre smart working sempre diciamo appunto lavoro a distanza quindi preghiera e meditazione dopodiché faccio merenda e vado su a studio a lavorare fino all'ora di pranzo all'ora di pranzo pranzo molte volte pranzo con qualcuno quindi approfitto oppure vado da Loma che è un altro posto che vi manda fuori di testa me l'hai già detto questo me l'avevi detto dovete venire perché voi vi piacerebbe un casino a Loma ti fa uscire di testa ora pensa a Loma con lockdown ti ma guarda l'epitibio l'epitibio piazza menegno agrippa allora a Loma con lockdown si è digitalizzata lei non c'ha lo smartphone però che sta un'amica ma Loma è una persona è una persona pensavo fosse il nome del locale l'epitibio si chiama scusa e quindi ogni giorno ti manda il menù via whatsapp ottimo e quella è un'esperienza mistica ma c'hanno sti menù questi disegnati a mano così infantile quasi è quello che manda via whatsapp questo è quello che manda via whatsapp farlo lenticchie carciofi no ma faglielo leggere bene non quello delle bevande purtroppo piadine di tortine di baccalà comunque quando arringa in pelliccia tanta roba fa caspita e questa roba ogni giorno la cambia e la madonna cioè alcune cose le potresti mangiare anche una sola volta ma quindi un po' un quartiere un po' hipster il tuo molto hipster caspita ci sono tutti i romani c'è qualche vip che abita lì che sai lì fuori di Giulio Gaudiano Simon Bolivar che è Simon Bolivar si è abitato lì Simon Bolivar l'imperatore della della Sud America abitava città giardino è una madonna tant'è vero che c'è il parco dedicato a Simon Bolivar perché abitava città giardino è quello del Bolivar è dei Bolivar che sono crollati completamente poi chi c'è di vip ci abbiamo che si sa che i Bolivar che i Bolivar sono venezuelano non si dico la gente crede ma è meglio non dire se no il vip dice che cazzo no è giusto oppure il raro bar Emporio che è il bar Emporio dove puoi comprare i mobili perché in realtà è il bar del rigattiere ci sta ci sta che le persone del quartiere ancora lo chiamano bar Omero e quanto dici dal mare? tu dal mare se vuoi andare al mare quanto ci metti? 50 minuti ah beh non poco almeno io vado al mare a Santa Severa ah ok quindi va dai a Ostia sta cosa che i romani ognuno va al mare alla sua spiaggetta che culo ma quando tu vai in ufficio sopra ti cambi anche o sei in tuta da casa? no sono un vestito perché ho accompagnato le figlie a scuola quindi sei anche vestito da lavoro è certo va a sottolineare ma è importante perché molto spesso vediamo anche i nostri collaboratori che stanno non in pigiama però hanno la tuta da lavoro non lo puoi fare non lo puoi fare non ti aiuta a entrare nel mood da lavoro oppure quelli ecco questa è un'altra cosa che pensiamo sia ridicola perché l'abbiamo imparata ripeto dal 2004 che facevamo smart working la prima cosa che fai quando inizi con lo smart working la gente non lo sa è dire bella lì lavoro dal giardino sotto il sole davanti al mare lavoro dal core computer non si vede niente non si vede un cazzo io mi ricordo ero un ragazzino ci provavo e avevo detto ai primi due o tre giorni iniziato a avere mal di testa mal agli occhi infatti qua ti rendi conto come le foto di quello sulla spiaggia che lavora con laptop e sono inventate ho iniziato a mettere adesso la mandiamo te la mando via me ho iniziato a mettere gli scatoloni dentro il computer perché ho detto così almeno ci vedo bene però comunque comunque mi veniva mal di testa lo stesso a un certo punto mi sono arreso dopo dieci giorni ho capito che voglio lavorare veramente devo stare al chiuso poi ogni tanto ci sta fai mezz'oretta fuori di lavoro leggero dove fai qualcosa di leggero guarda io ringraziando Dio ho uno studio minuscolo è più piccolo del vostro bagno ma ho una terrazza molto bella ed è sulla sommità del monte sacro quindi del monte e quindi da casa mia che è molto distante vedo San Pietro vedo i monti vedo se c'è la neve guarda allora io sono andato a Forteventura ho mandato sta foto a questi ragazzi io stavo mangiando e mi stavo godendo nella mia settimana di proprio libertà e guarda questi sono i ragazzi che lavorano in smart work ma il problema sono le loro facce le facce perché tu lo puoi anche fare quello se c'hai il sorriso in faccia vuol dire che funziona poi ti fai lo sprint e poi non ci capisci più allora parte quello al telefono che secondo me alla telefonata all'aperto ci sta ma gli altri guarda l'imbruttimento la spalla chiusa l'occhio torvo io ti contesto pure la telefonata la sharpist cos'è questo sharpist? ti contesto pure la telefonata perché perché è necessario stare così? ah tu dici mettiti una mettiti una metti una regolare e passeggia io passeggio quando faccio la telefonata guarda l'abbruttimento mi dispiace per chi ci sta ascoltando magari sono italiano e ci seguo il cappello per terra pieno di sabbia guarda lì adesso è uno sbacco è una situazione guarda la postura cioè non è una infatti come l'avevo condentato su whatsapp come l'avevo commentato al tramonto dell'uomo perché praticamente c'era il tramonto questi stavano facendo lavorando spiaggia al tramonto con ste facce sto bruttino spalle al mare poi spalle al mare bravo spalle al mare cioè capisci che è tutto mentale adesso non voglio tornare sempre alle nostre cose in life design però comunque dentro il libro life design c'è tutto c'è anche questo no è vero perché tu dici quella gente lì lavora sulla spiaggia ma perché il mio link è affiliato a amazon sì sì ti mettiamo il tu cioè non so come dire te la te la te la vendono cioè quella gente lì si mettono in spiaggia perché inconsciamente magari si sono fatti un selfie ecco questa potrebbe essere la spiegazione sono spalle al mare perché si sono fatti un selfie da mettere su insta in cui devono far vedere che stanno al mare bravo allora è un segno della poca consapevolezza delle persone che non si rende conto innanzitutto che ha delle posture non ergonomiche che ti faranno venire mal di collo mal di schiena male a tutto ho provato a simularla ti viene male secondo me anche in mezzo alle gambe talmente è scomoda e non si rende conto che in realtà la loro produttività è ai minimi storici perché non lo sei se sei consapevole e fai una e cerchi di misurare quanto be non tanto quanto stai lavorando ma la qualità del lavoro non può essere all'altezza di un lavoro fatto bene se stai 4-5 ore ne abbiamo visti tanti così ma si vede infatti nel monachesimo occidentale per dire San Benedetto ti distoglie continuamente dal lavoro perché tu non sia mangiato dal lavoro ora et labora sei continuamente interrotto dalla preghiera il salterio monastico ha infinite ore di preghiera perché non perché quando preghi diventi più buono ma perché tu possa bilanciare tutti gli aspetti della tua esistenza e quindi il lavoro se io ti dessi una sola ora saresti in quell'ora molto più produttivo io l'ho provato con mia figlia stai puoi lavorare 4 ore invece che 8-10 produci molto di più perché produce di più? perché dicendo ho poco tempo per vari motivi uno perché sei meno stanco quindi sei più fresco e performi meglio un altro perché hai meno tempo e quindi fai solo le cose importanti perché alla fine le cose veramente importanti che mandano avanti la baracca sono poche e questo suona molto per le persone migliaia che ci dicono eh ma io vorrei tanto seguire i tuoi dettami di live design ma non posso perché ho un altro lavoro non posso perché ho il bambino non posso perché la mia vita è già troppo densa guarda non è il tempo la durata ma all'inizio ma guarda io spero che voi abbiate fatto un buon lavoro in questo libro perché il problema di quel libro precedente che era del di designing life che era un po' il punto di riferimento per il life design se poi parliamo di persone che sono arrivate al concetto di life design perché molti non sanno manco che esiste il life design cioè che tu puoi vivere la vita in maniera intenzionale magari cercano che si comprano money o si comprano cioè pensano ancora non hanno capito che c'è tutto un altro discorso comunque mettiamo il problema di quel libro è che ma io ho i figli da compagno a scuola non lo posso fare perché è impostato tutto anche molto su quello che tu sogni sì 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 quello partiamo dalla tua realtà quotidiana no devi fare pesciare il cane ok va bene no ma infatti cerca di coniugarlo con un momento di rigenerazione ma guarda te lo dico perché se riguardo indietro questi ultimi anni come Enrico dieci anni in cui abbiamo dedicato la gran parte della nostra giornata ai nostri progetti di formazione tipo money surface eccetera ma le cose che hanno fatto fare il salto di qualità dal punto di vista banalmente del fatturato sono delle intuizioni delle idee e delle mail e delle telefonate che hanno richiesto o delle presentazioni che hanno richiesto forse mezz'ora di tempo ecco sono poche cose fatte al momento giusto e magari con la strizza giusta che ti fanno fare il salto di qualità beh questo è il lavoro degli artisti cioè gli artisti il lavoro dell'artista è perdere un sacco di tempo fare un sacco di vita e poi a un certo punto beh sicuramente se per esempio fa un quadro è uno che ha studiato per saper padroneggiare una certa tecnica ma poi il lavoro eccezionale è il risultato di una grossa perdita di tempo che è in realtà una ricerca lieve sottile ma molto efficiente per trovare quell'idea geniale per fare una vera opera d'arte perché quello che ne parlavamo oggi in macchina è che l'arte moderna molto spesso è semplice comunicazione cioè è un disegno è un quadro è una statua che è comunicazione ma non c'è non trasforma la persona che la guarda questa cosa ci ho combattuto molto e ci combatto meno del passato io sono storico dell'arte contemporanea veramente spiegaci un po' spiegaci perché l'arte è come un libro l'arte contemporanea cioè la malattia non nasce secondo me dalla dall'artista ma dal sistema dell'arte poi ci sono alcuni artisti che sono furbetti quindi sono talmente adattati al sistema dell'arte da essere colpevoli anche loro il sistema dell'arte è un sistema commerciale dove l'arte viene utilizzata come strumento di prestigio come strumento di investimento ma se noi pensiamo all'intenzione dell'artista l'utilità anche dell'opera d'arte moderna del non lo so del cretto di burri diceva quello lo sapevo fa pure io ma non è l'eccezionalità della realizzazione è il fatto che come quando hai un libro il valore di quel libro non è quello che ci sta scritto dentro non è l'informazione ma è che l'atto della lettura ti permette di entrare in una dimensione nuova di pensiero che interagisce senz'altro con le parole che ci stanno scritte ma è l'atto della lettura che ti dà la possibilità di pensare e di crescere nel frattempo sai che questa cosa vale anche al contrario il quadro non esiste se io non lo guardo ma non esiste neanche al di fuori di me cioè io sono davanti a quell'opera e guardare quell'opera è quella cosa che è l'arte perché poi a che serve l'arte secondo te a che serve l'arte perché l'uomo cioè tra le tante cose che fa dice vabbè l'uomo si accoppia per fare dei figli va a prendere lotta per avere le cose da mangiare l'arte perché a un certo punto uno durante dentro una caverna ha disegnato un mammut perché allora ci sono vari tipi di arte se vogliamo secondo me è tutta roba mia che potrebbe essere anche totalmente sbagliata sono mie deduzioni totalmente c'è l'arte che ti fa stare bene quando tu la fai e ti cura è quasi un'arte curativa quindi tu hai proprio questo istinto di disegnare qualcosa se ne prendiamo e quel fatto di disegnare ti produce qualcosa ti cura ti trasforma in qualche modo perfetto poi c'è l'arte e queste secondo me sono le arti vere che cura chi la guarda cioè ti trasforma non è che solo ti comunica ti evolve ti fa mettere in moto qualcosa qualunque cosa essa sia di profondo però ok questa secondo me è l'arte quella allo stato più elevato e poi ci sono le arti magari moderne dove c'è io ti comunico qualcosa ti trasferisco delle informazioni ma queste informazioni sono a livello razionale e si fermano lì beh fammi esempio di un'opera per capire tipo bansy alto politico allora guarda a me piace molto l'opera che ha fatto della banana a cattelano secondo me è un atto comunicativo potentissimo è fighissima è una genialata l'apprezzo secondo me non trasforma niente beh però ha portato ha fatto scaturire tante discussioni sì sì ma infatti è un'arte razionale quindi è un'arte razionale ha un vabbè la razionalità fa parte dell'uomo infatti ho detto che è figa però la banana di cattelano avrebbe potuto farla chiunque altro la banana di cattelano l'ha potuta fare solo lui perché è cattelano infatti da questo punto il discorso è puramente razionale è puramente razionale è un quadro potente cattelano fa parte del creato sì ma infatti non sono diminutivo non sono sprogettivo ho detto è funzionale a fare un discorso razionale ed è un tipo di arte ma l'arte quella sulla punta della piramide è qualcosa che ti dà ancora di più però capisci che è un'esigenza umana primordiale o postmordiale ma il bello dell'arte è che non ha piramidi cioè nel senso che non c'è un'arte superiore o un'arte inferiore è un campo non sono d'accordo è un campo che non non è possibile osservare con occhio lucido nel presente e questo ce l'ha detto anche molto bene Deodato è stato il primo ospite ma non è questione di superiore gallerista più famoso d'Italia lui dice è impossibile giudicare un'opera d'arte nel presente lo saprai solo dopo quindi dire un'arte migliore dell'altra io parlo dal punto di vista umanistico attenzione dal punto di vista che poi sono i critici che determinano il valore quello dal punto di vista che c'è la critica d'arte c'è la storia dell'arte a me nella storia dell'arte tu non puoi dire cosa è arte oggi perché ti serve una prospettiva storica c'è un'arte migliore di un'altra nella prospettiva critica io penso poi non ero lì con loro con gli uomini primitivi che lo facevano ma penso e ci sono buone prove anche dagli studi diciamo degli antropologi che hanno visto civiltà di interesse etnologico che oggi replicano quel tipo di dinamica che l'uomo quando è andato a disegnare il mammut e le otto persone che gli stanno intorno per catturarlo lo stava facendo per dare una forma esperibile attraverso i sensi a qualcosa che non sarebbe stato esperibile se non nell'esperienza stessa cioè se tu non hai mai cacciato un mammut come faccio a farti capire la paura farti capire il senso di vittoria lo provo a rappresentare provo a fartelo esperire tramite la vista come nel teatro perché si fermavano le guerre in Grecia oh cazzo questi facevano le guerre e si fermavano per fare il teatro era sacro perché gli dei volevano che si facesse la tragedia perché nella tragedia tu puoi avere un'esperienza profonda anche di cose che non sperimenterai non ucciderai mai tuo padre non avrai mai un rapporto sessuale con tua madre eppure io ti devo far vedere la storia di Edipo perché tu possa vedere cosa succede il male il bene dov'è cosa succede l'impatto evolutivo hai fatto il classico tu vero si sai fare il classico io queste cose non le so dire così bene vabbè poi anche studiato cazzo allora le sai le cose io penso allora quindi in questo senso l'arte serve per esperire allora io ti posso far esperire l'amore facendoti vedere un film d'amore ma anche facendoti vedere il video di uno youtuber che fa un vlog perché tu esperisci una cosa che non hai mai vissuto io attraverso il tuo racconto posso essere lì a forte ventura con te però posso farti anche esperire il blu e questa è la fortuna dei travel blogger che prima del covid spopolavano sì ma mi dici una cosa da milanese a romano tu sei romano 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 perché non si capisce tra australia no ma più che altro sto accento di Adelaide c'è una cosa la cosa dell'Australia è mega montata pensa che ma è colpa mia esatto sei australiano nel senso che una volta una cliente sta facendo una consulenza quando sono venuto in Italia no ma è troppo deluso io ho iniziato a fare consulenza con te perché stavi in Australia cioè Australia è uguale dell'Italia lo dico proprio l'Italia è uguale è proprio un esotismo no l'Australia è un altro mondo è un mondo uguale i denti tu esci da casa ma sai quante volte io sono andato a abitare a Bruxelles non mi cagava nessuno poi sono andato a vivere a Bruxelles tornavo tutti volevano parlare con me tu hai una mentalità europea esatto volevo scrivere nei giornali da sempre mi piaceva un casino scrivere non mi cagava più nessuno poi ho continuato da Bruxelles a dire se volete scrivo delle robe da qui tutti mi hai chiamato Max mi hai chiamato Repubblica ma certo sei all'estero insomma è un provincialismo assurdo quindi io sono andato in Australia perché mia moglie è la cittadinanza australiana e anche le mie figlie perché sua madre le ha trasmesso la cittadinanza perché suo nonno era un contadino veneto immigrato immigrato con undici figli sulla nave l'oceania sono montati sopra e se ne sono andati in Australia in un posto dove lui stesso aveva giurato che non avrebbe mai portato perché era la terra del demonio era un posto proprio un posto dove non si viveva bene dove c'era un degrado morale adesso invece era il carcere degli americani bisogna dire a un or del vero sennò quelli che sud australia mi semagnano che in sud australia non c'è mai stata immigrazione carceraria quella che c'è invece stata per esempio in New South Wales e Sydney e là si vede infatti su tutte le facce però voglio dire il discorso è che fa figo quella è un contadino veneto per poter sopravvivere per cambiare i tempi cazzi no anzi pensa mia non c'è più mia suocera quindi la mamma di mia moglie e il padre di mia moglie che ora vive a Surfer's Paradise che posto qualsiasi però Surfer's Paradise ah un posto fantastico bene loro due si sono incontrati su una nave una nave che dall'Australia andava in Italia nel 1000 nel non lo so però insomma negli anni 70 ok e si sono incontrati si sono innamorati e poi la loro love story si è sviluppata a Tahiti stavano eh di Tahiti so tutto di Tahiti perché durava 31 giorni il viaggio in nave dall'Australia all'Italia quindi c'era tempo di lui diceva a giù quella nave era era un paradiso perché pensa tutti i ragazzi che viaggiavano 31 giorni in nave non potevano andare da nessuna parte quindi feste cose e questo l'ho detto per dire che loro poi hanno scelto di vivere in Italia perché dice negli anni 70 in Australia non c'era niente era tutto in Italia cioè eri lontano da tutto in Italia c'era il boom c'era la moda c'era la musica c'era l'arte e noi volevamo stare dove succedevano le cose in quel buco di culo d'Australia dove non succedeva niente certo e invece oggi noi abbiamo un complesso di inferiorità no? in Italia invece gli altri sì che hanno capito invece in Italia sminiviamo l'Italia è un posto pazzesco certo pazzesco bene tutto questo da milanese a romano come fai so che qua è psicanalisi a vivere bene quella mezza giornata che non lavori senza sensi di colpa nel dire questo lo chiedo sempre anche al mio amico Mario che lui è un ozzista professionista cioè come non c'hai la testa che rimbomba che dice però se io adesso fossi lì potrei aumentare la qualità di questo potrei fare quel contenuto in più come si vince quella vocina milanese essendo romano forse romano esatto siamo vaccinati ci fanno un vaccino appena nasciamo non ce l'hai l'hanno già fatta l'hanno già fatta gli antichi romani non ce l'hai cioè non ce l'hai ufficiale alla fine non ce l'hai non viene non si segue qual è la tua vocina che ti tormenta invece ce l'avrai siamo dall'adurso ce l'avrai non lo so non sei perfetto sei biondo occhi azzurri australiano che cazzo la mia vita la mia vita è un caos sono contento che c'è Alessandro perché mi vede lui molte volte noi lavoriamo ma non possiamo inquadrare l'Alessandro facciamo vedere Alessandro non c'è la camera si deve inquadrare lui un fotografo come Alessandro che fai nella vita questo è l'uomo vai che fai nella vita cosa faccio io cosa fai per lui per lui content manager content manager che significa tutto che significa niente cioè gli dai un factotum io praticamente mi sono clonato infatti è uguale no e lui è pazzesco è una persona eccezionale bisogna però sempre dire che è una merda così lui sei una merda ritornano lì ritornano nel tuo angolino grazie è una persona di un'intelligenza assurda e gli ho insegnato tutte le cose che io faccio e che volevo fare di più o fare meglio perché poi io magari inizio una cosa e poi non la lascio a metà invece lui è super metodico infatti gli dico sei sempre un serial killer perché lui si mette lì trasferisce le cartelle da una harddisk all'altro una a una e non perde tu non sei romano non sei romano è romano pure lui anche a Roma sanno copiare cartelle e fa delle foto pazzesche è un fotografo eccezionale e oltretutto è l'autore della famosa foto del Colosseo Vuoto si può dire? non la conosco lui fa foto sferiche oltretutto io faccio le foto in 3D siete amici ma dai potete copulare fate le foto sferiche però il problema delle foto sferiche è che tu lo sai bene perché fai foto in 3D che se non le vedi con gli strumenti adatti non rendono infatti c'hai l'Oculus è lo stesso problema che ho io diffonderle le mie foto 3D lui ha trovato l'acheraggio per diffondere la foto sferica e farlo in maniera semplice la prima volta che l'ho visto io avevo una fotocamera sferica quindi ho iniziato a utilizzarla che cosa ha pensato posso dire il trucco? questo è merito di Alessandro Miglior lui ha detto io vedo la foto sferica per scaricarla sullo smartphone la vedo come una palla è certo proiezione equiretangolare perché poi nel visore la vedrò in maniera che posso girarmi e vederla all'interno quindi a 360 lui muove la palla sceglie un'inquadratura della palla e screenshotta la foto quindi fa una foto alla foto sferica creando un effetto prova a andare sul suo Instagram così rende guarda per esempio la foto in cui corrono le biciclette intorno a Piazza del Popolo come ti chiami su Instagram? Alessandro Miglionico quanto lo paghi? da domani di più e mi raccomando Alessandro è bastardo la partita tanto ormai è ricco tanto ormai è ricco Miglionico ebbè Miglionico il segreto per rendere le persone conoscere è renderle ricche ah l'ho visto ah ma aspetta ma stai parlando di queste foto dove sembra che c'è un piccolo pianeta nel la foto lui ha fatto la foto alla foto sferica e ha creato il pianeta e quindi il pianeta triggera le persone e dicono ma com'è sta foto e a quel punto tac gli emetti la foto sfera beh aspetta però mica l'hai creato cioè voglio dire no però capito diciamo che quello è un errore cioè la foto però è diventato osatissimo è diventato osatissimo sì non mi dire che l'hai inventato tu questo metodo io vedo anche i paracadutisti fanno le foto è lui è Miglionico è lui io invece questa cosa è Miglionico io invece le foto 3D questa cosa non la posso tradurre su uno schermo non si può fare però magari però sarebbe interessante prova a mettergli una macchina 3D in mano fare questo un grandimento certamente no anche per i soggetti che fotografo io che non sono quelli che fotografa lui quindi poi dopo li facciamo vedere dopo perché siamo a parlare di ah no perché lui mi vede entrare e uscire no entra studio allora inizio a fare iniziamo a fare un podcast no cazzo devo andare per mia figlia a scuola ciao ci vediamo dopo poi ritorno allora faccio 10 minuti per fare il video prima che mia figlia esce da violino proviamo ciao ragazzi buongiorno ecco come si fa il podcast vai monta tutto perché devo andare quindi chiami la casa tua lui nello studio dormi da te no sai come i cinesi no e quindi il discorso è che non ho il tempo di sentirmi in colpa la vocina che ho è la sindrome dell'impostore ah beccato ma quella ce l'hanno ce l'abbiamo intanto tutti i più grandi ce l'hanno sentita ecco io ne parto accettazione più volte ti dicono questo qua del tema della sindrome dell'impostore beh ma allora per dirti te la guarda te la smantello subito Silvio Berlusconi quindi voglio dire il più grande impostore ah no no esatto no no ma è vero cioè fino a qualche anno fa di gran lunga uomo più potente guarda che dopo mangiamo tra poco mangiamo dai non ingozzarti ma lasciali con quel cazzo mi piace lo sai che mi piace mi piace l'ASMR che crea ah quindi no niente ragosto però senti come è una plastica di qualità sì sì sono le barrette di BeKind che prima o poi ci pagherà dovevi dire che siamo sponsorizzati da loro che prima o poi ci deve mandare la fornitura bonifico ci pagano in fornitura e Berlusconi che vuol dire c'è bisogno pure dopo tutto quello che hai fatto primo ministro uomo ricco d'Italia eppure eppure o anche all'ultimo periodo quando ancora uscivano le sue intercettazioni diceva le ragazze quando faceva le sue feste dovevano tutti vedersi in montaggio dei suoi video che faceva i discorsi che stringeva la mano Obama che andava dal Papa cioè c'era un continuo rimando di immagini di se stesso che sicuramente c'è un tema egoico per dire guardate come sono grande io ma è evidente che qualsiasi psicanalista ti direbbe lo stai facendo perché anche tu non ci credi sai che stai inculando tutti eppure hai inculato il mondo e sei riuscito a inculare il mondo è un lavoro nel tuo caso non è così perché anche Berlusconi sei arrivato lì qualche dote mi sa che ce la doveva avere anzi ci sono dei video suoi quando era giovane era un imprenditore di un certo livello ti do una chiave di lettura per farti sparire magicamente la sindrome dell'impostore che potrei probabilmente hai perché hai questa grossa empatia che ti aiuta a percepire anche la perfezione che c'è nell'universo nel mondo nella vita umana e il fatto che nella tua grande consapevolezza vedi che tu non sei perfetto come quello che percepisci e il mondo ti crea un piccolo disequilibrio però è proprio quella imperfezione che si incastra perfettamente nel mondo perfetto che vedi che ti dovrebbe spingere ad andare avanti ad essere più imperfetto possibile e avere questa opportunità di continuare a viaggiare perché nel momento in cui diventi perfetto ricordatelo muori ma il principio di indeterminazione Sienauer alla fine questo ci aiuta a focalizzarlo no? cioè tu sei parte di quella cosa che stai guardando e quindi se c'è un pezzo che manca e quel pezzo sei tu c'è un libro fantastico che dovete mettere nel vostro percorso regalarlo il primo giorno a tutti i live designer si chiama Pezzettino Leo Leonni Pezzettino ma è una cosa pazzesca è un libro per bambini io quando lo regalo ma che è per i miei figli no per te sarà tipo 15 pagine ma ti cambia perché vabbè non voglio fare spoiler assomiglia però è questo che dice lui è questo cioè è quel pezzo che manca sei tu eh ma infatti poi ci sono tante metafore lui ha utilizzato quella del quadro però cioè quella della sinfonia universale del mondo come sinfonia abbiamo parlato anche qui ma Michelle l'ha detto il tuo ciascuno di noi ha una nota cioè una melodia da suonare che deve accordarsi alla sinfonia del creato e Pezzettino cercava dice di chi sono io il pezzettino e allora va in giro faccio spoiler però l'abbiamo detto va in giro a cercare di chi sono io il pezzettino e solo quando in questa ricerca va dal saggio va da da quello quando cade e si rompe scopre di essere fatto di pezzettini anche lui e quindi scopre che non è il pezzettino di qualcun altro ma che io sono io e quindi se dice manca qualcosa questo sfondo perché io la sto vendendo dove sono io sono un pezzo incastrato in quella roba lì è il mio pezzo quindi io ci convivo tranquillamente con la sindrome dell'impostore cioè ho imparato a farla accomodare e quando impari a farla accomodare non hai più bisogno di dimostrare la foto mentre come dire stringi la mano a Obama è uno stimolo me ne erano pure fatte queste foto cioè ma si ma se hai conosciuto Obama no no nel senso che sai all'inizio all'inizio cominci a fare la pagina meno male che io non sono metodico meno male che non sono Alessandro Miglionico altrimenti avrei pubblicato su LinkedIn tutte le foto mentre stringevo le mani ai capi di stato ai grandi personaggi che ho intervistato ma non me ne frega un cazzo perché l'unica ricchezza che mi può aver lasciato è quella che hai lasciato dentro di me tu che ci guadagni ha detto sai io ho stretto la mano a Pinco Pallino questi cazzi c'è uno per esempio era William Joyce che diceva sta cosa che siamo fatti delle persone che incontriamo nella nostra vita il condizionamento che c'è uno che ci gioca tantissimo lo conoscete Luca Lamesa? sì Luca è un genio perché mostra super esperto di social media e mostra quanto è forte il condizionamento che le immagini hanno sulle altre persone lui ha un selfie con chiunque con chiunque ma quando ti incontra subito si fa un selfie con te perché tu magari domani diventerai il presidente degli Stati Uniti eh sì e le sue presentazioni hanno dei selfie che sono dei trigger mentali per le persone che le vedono che attribuiscono lo definiscono in base alle persone con le quali si è fatto il selfie certo fa authority c'è il trasferimento di autorità trasferimento di autorità tu parli di tecnologia c'è una foto con Bill Gates perché l'hai incontrato per spiagge ma non conosci boom allora si figo la cosa c'è devi imparare secondo me ecco cioè nel senso io ho imparato a conviverci quindi mi dico sono un impostore può essere ma chi sarà cazzo però intanto intanto mi sto divertendo facendo quello che fa poi mi stupisco a volte mi invitano che ne so a parlare dico ah grazie mille per questa cosa allora allora ne so l'impostore deve essere uno stimolo per dire la parte di te che è impostore di tutti noi è quella che cerca di diventare di essere qualcosa di più grande o diverso da quello che è però è anche quella cosa che ti spinge poi ad andare in quella direzione quindi fa parte del desiderio eh certo la devi vedere come uno stimolo non come del minchia sembro molto più fico di quello che sono non so però se è uno stimolo sano perché è uno stimolo guidato dalla paura e non dal desiderio e devi fare questo switch è il pendolo cioè la forza è la stessa solo che tu lo stai vedendo da sinistra a posto che a destra ma è la stessa forza ok una volta che la sintetizzi e con te per sempre ti porta nella direzione giusta bowl sì la direzione è quella del cibo eh no perché diventiamo la bagnata se la faccio e finiamo tutte le barrette allora Giulio tu avevi portato un altro libro allora sì no perché non possiamo lasciare un libro in risolto anzi avevamo iniziato parlando di quello abbiamo detto no 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 diciamolo in registrazione le nuove tesi del questi libri Trump manifesto questi sono regali sinceri e non candidati alla marchetta quindi anche se non ne vogliamo parlare non ne parliamo ok è che è lungo il discorso dici le nuove tesi del clou train manifesto lasciamola come suggestione poi la gente sono un gioco una provocazione ehm e sono fiamato no il clou train manifesto che sfigati che siete 93 perché non siete arrivati a 100 ah no siete arrivati a 103 sono dissi ma cosa le pagine non so neanche quanti sono le nuove tesi del 121 121 tesi clou train manifesto il clou train manifesto è un un documento storico della della storia di internet quello dal quale è stata presa la frase markets are conversation e tante altre che in tempi non sospetti prima della nascita dei social media prima di youtube prima di google avevano già visto cosa sarebbe successo dopo in maniera molto scherzosa naturalmente perché sono tesi come le tesi di lutero questa è l'idea tutte frasi a botta ma ce ne sono alcune cazzutissime quelle nuove tesi uscite dopo 15 anni io le ho tradotte in italiano una di queste per esempio è sentitela e poi mi dite che cosa vi ho a pensare personalizzato non è personale eh sì pensiamo al fenomeno della pubblicità del retargeting questo è stato detto tutto prima pensate al retargeting al fatto che ognuno di noi ha un suo amazon un suo youtube un suo netflix che un'intelligenza artificiale o un algoritmo hanno creato intorno a noi quello è un universo personalizzato ma non è personale è personale io che parlo con te entriamo in relazione perché tu modifichi me e io modifico te mentre lo facciamo se sto mi sto rapportando con l'intelligenza artificiale lei modifica me ma io non modifico lei e oppure parla del parla dell'ancanny valley cioè della valle della perturbanza cioè quella sensazione che noi abbiamo quando qualcosa che noi conosciamo in una certa maniera nella fattispecie un essere umano viene simulato da un robot per cui i robot non possono sembrare troppo esseri umani perché sennò a noi ci danno fastidio se non riusciamo a capire devono essere o perfettamente umani o se no se sono poco poco meno che umani quella è proprio la valle del perturbante è questo grafico in cui di colpo c'è un buco per cui diventa disturbante ti piace il robottino? sì ti piace se gli metto due gambe? sì ti piace se gli metto gli occhietti che si illuminano? sì il gradimento sale sai che Enrico è un robot scende perché tu non sai più distinguere se quello è un essere umano o un robot e quindi entri nella valle della perturbanza quindi ci sono una vagonata di concetti ispiranti e soprattutto ti diverti perché è un gioco basti pensare che inizia dicendo ascolta o internet rifacendosi al al deuteronomio Shema Israel no ascolta Israele perché è scritto da due ebrei due professori era scritto a quattro diciamo da quattro il primo manifesto è da due questo secondo ed è un libro da hacker visto che siete hacker volentieri guarda questo me lo sparo tutto oggi pomeriggio tanto siamo qua a lavorare Giulio come ti becchiamo in giro strategia digitale a parte che noi mettiamo sempre tutto giù in descrizione strategia digitale punto info punto info poi strategia digitale punto info progetti per il futuro così sono curioso te lo chiedo il futuro è qua è qua piace io devo venire a vivere a Roma perché mi sa che quell'area lì farebbe bene mettiamo l'airbnb nella valle dell'aniera dopo vi faccio vedere ma no ma ci invita lui nel suo studio vabbè apposta sono tutti i guanti dentro mentre lavori appena aprono le gabbie grazie Giulio grazie Giulio per noi è il momento delle magiche bowl le bowl da chi le prendiamo non mi ricordo come si chiama ma io pensavo avreste fatto vedere il visore le cose dopo no lo facciamo a occhi a telecamere spente perché se no quelli a casa non vedono allora lui fa foto vabbè se ne abbiamo detto in troppe puntate ma possiamo mangiare non gli facciamo la sorpresa mentre facciamo podcasting a me piace così tanto il podcast l'idea è un po' cafona l'idea che si vede però chissà magari è il futuro spero di morire prima questo è il bazar atomico ciao